L'ha fatto... Oh, te stassi il bisogno è per a te? Eh! Oh! Io sento... sei tu sotto? No! Sono salito sopra io, ho avviato la libera Oh, ne porto l'odi eh Loro? Ho sentito l'odi abbastanza vicino, uno shop Forse è alla nave, aspetta che guardo I don't know Noi non lo chiamiamo e lo dà a tebroni in Wager Dipende No, no Vabbè, vediamo, ma probabilmente lo chiamano loro Eh, esatto, esatto Eh, ma allora a questo punto tu dici manco UAV Ma UAV... no, anzi li chiamiamo quando muoiono Ti sta pushando uno, ti sta pushando uno Eh, io te l'avevo detto Intanto mi sparano Quanto che ci è sceso uno? Come la discoteca Sto pushando, lupo eh Nella tenda, nella tenda, c'è uno nella tenda Fatto One shot Ha chiamato che sono quante... C'è un'altra, altri li tre ti pushano bro C'è ne tre lì da te Eh, sto guardando ma non li tre C'è uno è proprio nella tenda tua, tipo La casetta tua Muretto, muretto, è andato muretto E la discoteca Ok L'altro in casa, tipo A terra in casa? Oh, c'è l'altro C'è l'aricolo, c'è l'aricolo sotto Bella ragazzi, buonasera Ho messo il comando, Emanuele Sì, ho messo il comando del PC Dove ti dice tutte le statistiche Buonasera a tutti ragazzi One more time Allora, tra pochissimo Tra un minuto abbiamo il torneo, ragazzi E mo' ci stiamo un attimo riscaldando in pubblica Buonasera a tutti Buonasera Francesco Federica Vi sono mancato ieri Fatemi sentire Vi sono mancato ieri in chat Sì, dammi un secondo Allora, buonasera Andrea Buonasera Daniele Buonasera Giole Buonasera Ciro Quanto tryhard? Si tryhard Bella Maurizio Un torneo 2 contro 2 Dobbiamo fare un bel po' di partite Revirt Il primo che arriva A tre vittorie Su 5 su Revirt E che arriva a tre vittorie su 5 su FortuSkip Comunque sono le 9 Dovremmo startare Il torneo, credo Devo controllare sul Discord Ma penso che i ragazzi ci sono Perché dobbiamo abbandonare Sì, sì, guarda ci mette a correre Ehm Sì, sì, fammi scaldare Ha messo... No, non ci credo Questo ma ha messo la baricata sopra Ma perché non c'ho... Ehm, sì, me ne sono portato uno qui dentro Via Cosa non vedo? Buonasera Daniel Buonasera Daniel Ah, ok, l'ha fatto questo squadra con noi L'ha fatto questo qua dietro Mamma mia Sì, sì, esatto Pietro Esatto Hanno agganciato Non so se ci devono invitare loro Non so se mi hanno invitato Perché non vedo Aspetta un attimo No, ancora non ci hanno invitato Però se li invitiamo noi Mi sa che vengono È un grande lupo Grazie mille Francesco Ragazzi che il 30 settembre esce la nuova canzone E poi ce ne sono altre due che devono uscire Una la sto finendo ancora È la Fabrizio Ma è la Giuseppe Sai che domandi C'è nel negozio C'è Sì, sì Oh, guarda questo Ah, ha fatto loro Sì, sì, lo so il fatto di Terminator, eh No, Fran Ho trovato una L'ho messa adesso Oh, ma questo sul lancio Stava prendendo il lancio qua fuori questo, eh Taglia sta finestra Ha preso ed è andato via come un'anguilla No, no, ma ha dato la kill Cioè, aveva l'autoressa È impossibile Dai, magari l'ha trovato Dai Eh, ma com'è possibile? No, no, è qua a terra, Fran Guarda dove si era nascosto Non era possibile che aveva l'autoressa Oh, Christian Bell Bro, grazie mille per le 50 stelle Buonasera Eh, l'XM4 non male, regà Lo sto riprovando, eh Mi sa che è buono, eh Penso che arrivano tra un po' le lupacchiotte, Fede Perché? Hai avuto un O, un O, un O, un O, un O, un O, G Un O, G Eh, non posso No, bro, mi sto cercando di Di capire se sono bot O sono cargo Vabbè, a posto, ho fatto Oh, l'altro me lo pinga qua, in realtà È sotto di noi Ma dove si era nascosto, guarda Ma comunque scioglie l'XM, regà No, no, non mi è arrivata Non mi è arrivata la notifica delle 100, regà Chi ha mandato 100 stelle? Non mi è uscito niente What? Facebook ha scammato, regà No Oh, c'è uno qui sotto? Uè, guadio E che è la discoteca Come non c'entrano i colpi? Sì, io dovremmo controllare Su discorso il mi dato Su un 100-04 Io direi di andare a cavitarli Uè, adesso mi sono arrivato Non c'è Blaze che organizza Non c'è Blaze che organizza Sì, è già in live Infatti mi aveva chiesto se io ero in live Perché non mi trovava Dai, vogliamo uscire? Ma vai, esce, esce Io Finché non entrano, allora io non esco No, è Dovrei vedere su Discord Io non c'è un secondo Anzi, no, no Posso vedere dal telefono io Forse Esco a vedere dal telefono Non ti ne ho sicuro Sei morto? No No, no Non ci credo Ma come cazzo Gioca la gente Oh la madonna Da nova Wow, ma di sotto anche a me è nova Sì, sì Ci sono, ci sono Ma non capisco Allora Allora Allora, voglio ringraziare Christian Ma l'hanno lancerato Christian Grazie mille per le altre 100 stelle Anche Luca Con le 45 Raga, abbiamo scoperto Che col punto esclamativo Più il numero a fianco Attaccato Escono le stelle Sempre se le avete Ve li manda in automatico Dici che è tosta oggi Eh, oggi abbiamo il torneo Noi raga, speriamo bene E che non mi fa inviare 100 stelle Prova a fare Ferdinando Punto esclamativo E 100 Tutto attaccato Vedi se te le manda Abbiamo scoperto che c'è sta questo metodo Andava Micchia craccato No, one shot Non ci credo Mi è arrivato da nulla questo Chi l'ha visto? Ma neanche sentito in realtà Ah, ero distratto Ah, non ha fatto il compagno Pronto? Pronto? Ci siamo? Pronto? 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 Oh mio Dio Ok Stavo chiedendo un attimo ai ragazzi Stavo scoprendo un attimo Su Su Discord Ui Tu pacchiotto Non si può andare là Può riprendere le armi qua Ma la rubate? No? Sì Queste non sono le mie Ma non ho curato le armi Lupacchiotta Monica C'era Federica Cercava altre lupacchiotte Come stai Monica? Bene, grazie per il follow Ma i nostri compagni dove sono? Eh, io ho scritto mo' su Discord Farai, io ho scritto su Discord Vediamo se rispondono Oh, guarda questo Guarda Mamma mia Il chilo a media distanza Mamma mia Ha sciolto questo da prison Che si è buttato a media distanza C4 Niente Dai, se si restano il cazzo Non posso neanche pusharlo Mi guardano da prison Ho perso le piastre Adesso saliamo però E come saliamo? Andiamo sotto prison Eh, andiamo sotto prison Buonasera Giovanni Io non c'è male Dai, tutto bene Tutto bene Sempre incasinato Pieno di impegni Ah, me l'hanno confermato Io te l'ho confermato Ah, GG GG Guardi che c'è l'amico sopra Che mi ha tolto le piastre Sì, sopra Comunque, zio pera E niente ragazzi Non le avete acquistate le stelle Col punto esclamativo Più il numero Non ve le manda Cioè, dovete averle comunque acquistate Prima Dalla torre Dalla torre E c'è anche uno su prison Due, due, due prison Tre addirittura Uno a terra No, l'acqua l'hanno villato Vediamo se hanno invitato No Non mi hanno invitato Vediamo se vincono la partita Che fa mi resta Oh, potevi restarmi bro Dietro Ah, sei morto bro Dì Eh Vado Vado Stavo, te li fossi accorso Sono morto su prison Bro Altro gioco Meglio stavi comandando Cosa Non ho capito Cristiano Siamo 4 contro 1 Ho visto Ho fatto loro Niente Prima partita Easy Di riscaldamento Vittoria Quanti kill Penso 11 11 io 15 Livius Gli altri due Beccati a casa 9 e 5 Eccoci Ho capito 15 kill Con 5.800 di danno Non è quello che Stavo facendo ieri Dai, dai, dai Oh Ha detto che ci dobbiamo invitare in vicenda Ha detto qualsiasi host va bene Quindi O invito io O invitano loro Se no faccio io l'host Faccio io Dai Il sardo Chi era il sardo Il sardo Il sardo Non ti seguo bro Non ti sto seguendo XM non male Mi hanno invitato loro Vado, vado, vado Mi hanno invitato Andiamo da loro Dai Ma vi faccio vedere un attimo L'XM Vi faccio vedere un attimo L'XM4 Sì siamo in torneo Abbiamo fatto una partita Giusto di Di riscaldamento Un attimino Mentre aspettavamo di entrare Buonasera ragazzi Benvenuti Buonasera Allo 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 Vito Livius Regà Datevi un attimo Allora Livius Ti sto invitando Allora Kojic 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 Ma Kojic Oh no Mi viene il nome Io li ho mutati amico Accento sardo Ma voce russa Kojic Come si chiama Madonna Oddio Oddio non mi ricordo Il nome da streamer Vra Grande Lui sa Fa una parte Esagerata E fortissima D'RP Giocavamo a GTA Insieme Non penso Lui non gioca Kojic Di solito Allo 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 Stai dicendo Bro E' uguale Ha detto Che chi osta Osta E' uguale Per tutti Quindi Tanto Siamo Tutti Italiani Anche se In realtà Livius E' in Olanda Tipo Sei in Olanda Germania No in Olanda In Olanda Livius Però è uguale Io sono in Italia Voi due siete in Italia Giochiamo qua in Italia In Europa È uguale Ok Magari facciamo 3-3 Così 3-1 Uno sta Fortune skip E l'altro team Rabbit Si può fare anche così Iniziate prima voi Poi l'altra mappa Magari ho sto io Dai Mi danno via Loro Capitano 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 Io capitano È crab È crab Non mi veniva il nome Sì è crab È crab Lo so Non mi veniva il nome Mi chiamo Robert Prima o quale Non ho Non ho Fortune Detto tutto ciò Why you Che è quell'altro Che diceva Il green screen Wallack Vuoi vedere la postazione Guarda guarda Wallack Guarda la postazione Questo è il monitor PC Monitor Monitor della live Si Non c'è più Un cazzo Wallack Ce l'hai tu E tua sorella Arrivate a 5 Andate a prendervi un caffè E poi dormate Esatto Ti ha condannato 10 Sì 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 Allora Arrivate una decina di kill Fermatevi in un angolino Per un quarto d'ora Che forse vi raggiungiamo Va bene? No no ma mi dissocio No ma No no ma Livius No io non gioco da un giorno Quindi io Botto Livius pure Non c'è un casino Non c'è un casino Che fanno Con l'audio Regà però Comunque c'è un casino Esagerato Non so di chi Ah di desert Forse ogni tanto Tipo rumore di sottofondo Ah dici che fa interferenza Col microfono No tipo c'è un fruscio Io sento Non so perché Eh l'orologio che vibra Oh chi pensa che il lupo Usa l'uola Bazzi Sai quante Sì sì Mutiamo Va bene Ci mutiamo Io? Eh sì Sei Eh l'ho allontanato Perché se no blocca La 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 Vabbè L'ho mutati bro Quindi partiamo con forti Skip ragazzi Poi andiamo su Rhybert Ancora Chris Con le 50 stelle Bro Grazie mille Mo ti faccio dell'XM Aspetta un attimo bro Tanto Sono 5 Equipaggiamenti Che si mettono Te li faccio vedere Mo in partita Ma il problema Non è invidiosi Il problema è Ma guardassero Qualche partita Quante volte muoio Da che mi sparano Alla mia destra Alla mia sinistra Alle mie spalle A volte mi sparano davanti Non li vedo Se guardassero le partite Che gioco Prima di commentare No Devono commentare Cazzo I due monitor C'ho Uno gioco E uno guarda la live Allora Questo è l'XM Ah porco Due Eeeh Eeeh Prova a fare Punto esclamativo XM4 in chat Vedi un attimo Se ti esce il comando Perché mi sa che c'è Cazzo C'ho la monitor cam Lì Non te lo riesco a far vedere Comunque sono E' facile il settaggio 45 colpi Field agent Il mirino E' il per tre La canna E' l'ultima E' il silenziatore agency Cioè è proprio Facile Andiamo No Le astro Le ho lasciate Sulla play Adesso sto usando Delle cuffie Da computer Che servono Per la musica E' impazzito Christian E' impazzito Christian E' impazzito Christian Chi è che ha scritto Lupo il nostro botto Preferito Vaffan bagno Grazie mille Per l'altre 50 Vado a town Probi Town Andiamo Vado a town Qua Dove sto Andando La cattedrale Qua E' io mi splitto Un attimino Vado a quest'altra Casetta Mamma mia Zio Ho trovato Owen Ti vengo a dare una mano Zio Non mi serve una mano Frate One shot Pj Arriva un altro Arriva un altro Solo solo Sta scappando Non ti restare Non ti restare Ha scappato Eh si perché è l'ultimo Qua è andato amico Non è andato verso il cimitero No uno è andato qua E' scappato qua Sono abbastanza sicuro Un po' sopra Io sentivo altri passi Ah uno è qui Ho sentito Ho aperto la porta Ho sentito Ho aperto la porta qua E' nelle mie scale Tipo eh Ha tirato il bomba Sopra Mi ha tirato No Cioè Sono venito io Da sopra Zio No No È sopra Sono abbastanza sicuro Sì è sopra È strano Perché ho butto qui Eh c'è è qua È qua Hai visto? È ma assurdo C'ero anch'io L'ho visto proprio È arrivata gente Sopra Me ne ha piccate un sacco Atterra un altro sul tetto No 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 guarda dov'era Ho visto Al 300 Cristian Grazie mille per l'al 300 Buonasera Angelo Dai con i like Ragazzi Niente brodo Mi serve qualche arma C'è un botto di genere da te Ah Eh c'ho due assalti Ah non riesco a salire Perché non mi fai salire Guarda un attimo Devo abbassare un po' Fra Urli Ah non è entrato la finestra Ancora sopra Da mezz'ora che vado sopra Non li trovo Un attimo che mi chiami Mi fruda il naso Salito sul tetto Comunque è arrivato il lancio Però io sto tranquillo Io sto Sto Traguardando al massimo Quasi Quasi però Non sono ancora Abbastanza in forma Eh là c'è stato Guarda qui Un attimo la mira io Mi stanno a fare kill al cimitero Un attimo la mira io C'è credo Vedo niente Oh Io mi divido da te Eh vado a fare kill al trono No vai vai frate Io sto Giocando a scilla Ok Ho preso il lancio bro Il trono lo prendi Uuuuh Uuuuh Distrutto mia No niente Ma distrutto Perché se muore No Io vedo Sto ritornando L'inzio Quando si Ma Ah c'è ancora Roadoutro Eh Ma c'è uno che camperà Sopra Dai Che è successo No zio Si è bloccato Un joystick No mi serve Mi serve Assolutamente Mi hai preso tu Un cg Tanto molla Dovrebbe scomparire No c'è un altro qua Eh nient'ammi Mi spara Non sanno fatti l'altro No lasciati Mi lascio Ah beh in teoria qua Forse le piglio Mi entra nei colpi Con l'h4 brody No è strano Ancora forte in teoria Oh l'arma guerra Oh se muore Vinciamo la prima partita Eh Sono rientrato io Non far vedere Cioè almeno Cioè no Non far vedere Zio Gioca 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 Vabbè si è tornato tu Fra me mi servono le armi Cioè assolutamente Mi servono le armi Mi è la Ma io vado 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 Dove cazzo l'ho messa Eh me la scavallate Ma si sente un cazzo zio comunque Vai mi sono presa altre kill qua Peggerato l'audio comunque Eh Ma ha peggiorato l'audio Non sento un cazzo Fra un macello Cimitero T'han fatto Sì sì Cimitero Cimitero Eh zio Normalmente vado Ovviamente vado a pushare Ma come ha fatto Non andata era quello Vengo a darti una mano Fra io gli atterra sopra Non bene Non bene Pusha ora Pusha ora Pusha ora Sono due Uno qua Proprio in gatta Aspettino Qua C'è uno qua A terra Arrivo Ce l'hai da te Ce l'hai da te Vado 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 Manchi il dado Pro Porco duo Vado Vado Easy Grande Grande raga Complimenti Hai visto cosa ho fatto lì sotto Albi Stai volando Stai in stato di grazia Meno male che la Red Bull è stata La Red Bull aiuta Teniamo lì sopra Teniamo lì sopra Quanto questa l'abbiamo vinta Non c'è di pushare Lascia di pushare Sto facendo una partita Eh qualche altro kill voglio fare Ci pushano ci pushano mi sa Nice nice Tu guarda lì io guardo qua Matto Ma non rompere le scatole Ma l'ha data a te No l'ha data a me Oh lascia mi l'arma C'è niente Vergogna Pure bombarda Bombarda Peccato Ce l'avevo sotto Tuo tiro E io Pagherei Vieni vieni Stiamo insieme Tanto Ne sarebbe bella vingerla Qua 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 Eh non lo so C'è un'arma del merda Eh ma intanto muoio Dipende R1 No ma strada la torre Eh no sono morto L'hanno fatto dal carrello L'amico sulla torre Lui è il carrello Oh ma La Ah la La Wolfsburg S'è stata così Ah tu Pensa tu bro E' sicuro L'hanno potenziata No vabbè regà La Wolfsburg Nuova Cioè S'è stata in modo Da lungo raggio Fa paura Wow Wow Sì Eh ok 10 18 Aspetta Vuoi fare la foto Sì fa la foto Ma vado È normale Mo la mando sul gruppo Che che ha fatto 18 Di carai Lui 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 Io 10 zi Eh ho fatto uno salt brutto L'ho recuperato dopo No Mentre Io ho capito che uno di loro L'ha fatto anche lui No 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 18 Livius Io 10 Ok Prima partita nostra Regà Buonasera Florin Buonasera a tutti ragazzi Benvenuti E che cos'è La scottega Ci stiamo giocando il torneo 2 contro 2 Dobbiamo fare 5 partite Su FortuSkip 5 su Revert Il primo che arriva a 3 Ovviamente Vince la mappa Mo al momento Noi siamo 1 a 0 Dai lupo Sei in live Nella cucina di ristorante Oh Un bacione a tutti Come si chiama il ristorante Fra come si chiama Ciao Andrea Comunque un bacione Buonasera Buonasera Adriano Oh Ron Che Roberta Cioè buonasera Maurizio Che non diventi un vizio Mi raccomando Scusa ma se voi state in vantaggio E vi aiutate Eh no Non possiamo È una regola del Del torneo Non ci possiamo suicidare Quindi io Anche quando sono rimasto da solo L'ho giocata Come se fosse una partita In cui stavo col team Che non dovevo morire Perché non si può fare Nel regolamento Io per rispetto Dimmi tutto Allora è suonata Ah ecco ti No no ecco Ecco vi stavo parlando Un attimo Dicevo che io Poi anche per rispetto Fra io là Potevo simulare Sono morto No Non sono morto Ma la sono giocata lo stesso Ho cercato di sopravvivere Non 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 mi va di fare Ste cazzate qua Cioè sta scritto nel regolamento Che non ci si può suicidare Io la gioco come Se non volessimo rip Se mi killano Amen però Beh Landry scusa Ho letto adesso Alla faccia che non Allora Faccio saluto al reparto Covid Sant'Angelo Di Lodigiano Un bacione Un saluto al reparto Covid Di Sant'Angelo Lodigiano E un saluto ad Alex Niente Dai 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 C'è anche Dumitru Buonasera Dumitru È il pedalino Allora Il pedalino Ma il pedalino In realtà era per fare la pipì E la c'è Boh Non so Sono cambiata le cose Ma non sono apparse Zio Ma perché non sono apparse Fammi vedere Quando la mandate Fatto bene Avvisatemi regà E avvisatemi Se perdo qualcosa in chat Perché Ora mi sono comparse La 300 di Ah no Aspetta Aspetta Se salgo molto sopra Nella chat Sì ma Sì ma Sì ma Zio Perone Dico io Non ho sentito È presente Quando mandi le stelle Arriva il suono Quando sento il suono Nelle cuffie Praticamente Io mi giro Non ho sentito il suono Stavolta Ho visto ora Solo perché Me l'hai fissato Anche in alto Nei commenti Eh Si baggano gli alert Non l'ho sentito io Nella cuffia Io di solito Quando parte il suono Io mi giro Mannaggia tutto Comunque Christian È impazzito Grazie mille per il centro Vabbè Lo Comunque L'ho detto Se non vedo Scrivimi stesso tu In chat Mettilo nei commenti Fissati in alto Che lo leggo Sì 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 DJ Bro Il chilo è tornato Buono L'hanno potenziato Ma è una tattica Di marketing Perché mo' Deve usci il nuovo code Che Dicevo che ci sono le armi Di Capito Di motor warfare Alcune Quindi Che hanno fatto Hanno potenziato alcune armi Di motor warfare Perché deve usci il nuovo code Oh Ma tu sei sempre down bro No 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 Vieni in winery adesso Nella parte Guardando winery Nella parte in basso Cioè proprio verso sul Dove ci devi scendere lo shop A destra Vai L'XM Dico perché è tornato buono Cioè ho visto che squaglia Lo sto provando Non mi dispiace Ma mi sa che non c'è nessuno frate O sbaglio Winery mi sa libero Però non va bene Sono scesi con noi Eh non va bene eh Se vogliono rubare le nostre kill Mi sa bro Proprio hanno cominciato malissimo Oh abbiamo Eh no 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 zì abbiamo il lancio Ma non si può fare Vai lascio Io lascio Ah vabbè Vai push Io comincio a pushare Verso Eh vado Mi vengo con te Eh ma peccato perché Uh Uh tracciolino Ha beccato il primo Si è fatta la prima kill Vai niente Vai niente Io c'ho un bomba eh Metti qualcuno a terra Sperate ci sono i traviardini eh Mmm Ci hanno pure i zombie Che fa Portalo da me se No one shot one shot one shot Eh t'avevo visto Sta arrivando l'altro Sta arrivando l'amico in teoria Sì sì Vabbè questo piano qua Però forse no Si è ingaggiato con qualcun altro Vabbè ziti Tiro il bomba Tanto lo so che prima o poi va a finire Che muoio Non riesco a metterlo a terra Fra è one shotissimo Mi è scappato sul tetto bro Vabbè ci pensi A terra a terra Eh vabbè vabbè Tra ieri da due sotto di te Ok bro Ti è mai nientato Tavato Se fa Ma veramente non vuoi far lancio zi Dai dai facciamolo facciamolo Dai lo faccio io tranquilli Ah Eh ma io c'ho Eh ma io c'ho Lancio av Fa niente Anche se Io mi vado a pusha questi sotto Allora O uno al carrello No No so per morire E invece me non sono portato via lo stesso Io avevo l'odi ma non sono Non l'ho chiamato Sei morto? Mi ha lanciato uno shop Sì Qui lì c'era gente ma sono 3rd Eh non fa niente dai Eh di là stanno a fare kill eh Va bene va bene Per iniziare Qua da me c'è uno Eh stavo Non l'avevo Ma hai fatto Eh l'odi l'ha messo a noi Hanno chiamato l'odi Di fianco al nostro lodi bro Devi venire verso dove sono io adesso Eh una pena kill la turno qua sotto bro Volevo fare una kill qua easy No dai Dimmi Dimmi dove sono Che mi vengono a mano Qualcuno di sopra Visto Eh ma sono due sono Eh non mi pare L'altro si è confermato me ne vado No mi hanno fatto dall'altro lato Siamo sopra Siamo sopra di 4 Volevo più easy Ok che siamo sopra Ma guarda Chi ma chi l'ha Col chilo dall'altro Mentre ci spariamo là dentro Non ci voglio crede Oddio se muore Se muore Se muore vinciamo Vuole chi va a fare Eh per forza Perché deve fare spawn Sennò perdono Cioè ma prima non c'era nessuno winery Ma sono tutti winery Eh infatti zio Ma sai perché Perché poi tornano Vabbè Buonasera a tutti Comunque buonasera Io ritorno a loro Di dover farmare Con i lacchi Non ci credo Famo Quello del land Ci credi Ah Ci sono fatti la kill Eh Quello del land lì Rischioso Vabbè prova Io vado sull'altro Sanno sopra brodi No No si Sbagliato Sbagliato Ho ganciato male GG Non ci credo Sanno male Ma c'è ancora gente Sì Occhio là sempre È sopra Eh lo so Ce l'abbiamo sopra di noi Oh Invece noi qua Lato Altri due Altri due Sopra Ah Sì 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 Ficca miseria Ah L'ho visto Atterrato Ficca Altro Non ho capito Se me l'ha pingato o meno Beh Che c'è Io mi devo comprare Piastra Quanto stavamo up Ma di tanto Sì siamo up Siamo up Siamo up Eh Questa Winer Sta a fare kill Però Per ogni suo kill Noi ne facciamo tre Eh ma io sto andando Sto andando a Winer A rubarmi le sue kill Vediamo Oh Dai mi sono rubato una kill No Chi mi ha killato GG che ti si è rubato Ma ti pare Che stava nascosto Là dietro Non ci credo Ma sei stato tu supero però Sì sì L'ho preso io L'ho preso io Ok mamma No no Per sicurezza L'ho preso io Eh no Visto che non andavo a terra Ho sparato io Mamma siamo up Fra abbiamo vinto Pure questo No ma easy Però ti ho detto È raro che parli Una wager Eh Potrei ricordare Quando hai perso Contro di me Mi disto Eh vabbè ma Capita anche le Uh Le situano eh No ho craccato l'altro Ma me lo stanno per rubare Mi sa Quello lì Quello lì Non so se gli hai sparato tu Non credo No no Eh me lo stanno per rubare Dai Eh vabbè L'ultimo in volo L'ultimo in volo Me lo pinga eh È in volissimo L'ho visto ma non lo pinga Ehi C'ha la protezione Hittato È in fondo Non so se l'hai visto scendere Ci sta andando tracciolino Il mio tracciolino A prenderlo Eh uh Che bocarello Era lì Con la casetta là Mi pare Si è sceso qua Da qualche parte Vabbè Eh l'ha fatto la tracciolina Comunque abbiamo vinto noi Sì sì l'ho fatto l'ho fatto Aspetta No ma Aspetta Mi stava per mandare la foto vecchia Che faccio Mando due foto uguali Vai Mandata Mandata Siamo 2-0 Allora Bella Matteo Fanfo GG Ragazzi GG Matteo Fanfo Buonasera Che si dice Poi è arrivato anche Zagaria Il commissario Zagaria È arrivato Buonasera Prenda 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 Siamo 2-0 al momento Regà Allora se fammo il 3-0 Vinciamo sta mappa Se fammo 2-1 Così continua Poi Quando finisce sta mappa Dobbiamo andare a giocare poi Revert Praticamente Abbiamo vinto Abbiamo vinto anche l'altra Sì abbiamo Abbiamo vinto Abbiamo vinto sia Cioè tutte e due partite Sia sfida che è proprio la partita No Andiamo Andiamo Allora Lo vediamo Matteo Allora Si dovrebbero vincere dei buoni Amazon In teoria Ci compriamo Ci compriamo Un bel Un bel Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Stanno scritto Livius è sbroccato Chi? Livius è sbroccato Chi ha sbroccato? No Livius è sbroccato Ah Ok Grazie amico Stai sbroccato Allora Ciao Rupetto Riposo del guerriero Ci teniamo a digiuno Per sabato prossimo Che si festeggia il compleanno Faccio guavola Tu stai facendo festa Da giorni Comunque Cioè Sono giorni che fai Compleanni Uno mastici De tutto Matrimoni Bella ste Col persiano Ancora non siamo riusciti A ribeccarci Come Con persian Abbiamo giocato E però È da parecchio Che non giochiamo insieme Dai tempi di Verdansk E non siamo ancora riusciti A organizzarci Voi rompete il cazzo In chat Perché io Glielo ho chiesto No Vabbè Una volta l'ho chiesto Aveva aggiornato con i supporter Non poteva Gli ho chiesto un altro giorno Però mi sa che già Ero in da affarato Voi rompete il cazzo In chat Ti devi rompere il cazzo Dobbiamo giocare insieme Però Non bisogna Deconcentrarsi No no Assolutamente bro Guarda che sta partita Aveva iniziato a killare loro Non trovavamo persone noi Vai Andiamo Dove siamo Dove siamo alterati Da prima partita Da town Bravo Ok Ma nel posto In cui siamo alterati prima Mamma mia Fra è pieno Tra cimitero Tra cimitero Un po' prima Sono scesi Divertiamo Cioè lì c'ho la taglia a tre Già Vabbò A due Ci divertiamo Ci divertiamo Eh io mi ricordo Che facevo un partitone E lui Due contro terzetti Su verdas Portalo da me Portalo da me Portalo da me No 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 Me ne vado Passate Vabbè Vabbè fai tutti e due a terra ma sta arrivando l'amico da fatto mi sono mi fanno ma mi fanno mi sa e ma dobbiamo avere almeno cinque kill sennò non vale il game ma buone luce ma ha chiamato nevico in volo andato ma ha fatto un lancio di un c'è l'altra c'è no e ma non mi fanno mi fanno la madonna madonna me ne sono beccati i tre ma entri a spararmi addosso pure da terra sul cadavro mi dissolio ah mi ha stilato la kill no vabbè vabbè dai 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 no già mi hanno ingaggiato da fuori ho trovato un'arma buona chi a terra desert a terra io sto bruciando un'altra parte io gli vado a rubare chi il tracciolino ho preso una kill fra troppi team town è piena fra dove sono morto io è piena due team a quattro ok dai vabbè vado al lancio io ah c'è uno qui sul lancio no sono morto morto no non è in arma ero convinto fosse in arma era il colpo di un missile mannaggia vabbè siamo 4 e 6 noi siamo sopra di 3 oh mamma mia al lancio c'è il delirio no vedi che non mi entrano i colpi porca puttana ma come cazzo è possibile frate ma com'è possibile che non mi entrano i colpi eh perché ti lagga bro perché sei da laggiù non capisco ma cazzo stanno a gioco tutti attaccati questi qua madonna non è semplice fra sta partita è complicata non è facile cazzo tracciolino sta a 9 abbiamo perso abbiamo vinto eh non lo so abbiamo vinto abbiamo vinto di una fra incredibile che culo abbiamo vinto di una e niente signori a culo abbiamo vinto la terza partita di una di una kill solo eh capita anche questo raga in sfida capita anche questo allora mo in teoria dovrei ostare io eh buonasera Michele buonasera Angelo buonasera a tutti siamo in torneo raga due contro due che culo di una kill abbiamo vinto 3 a 0 ma ah 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 dobbiamo passare su Rebirth adesso si eh ma aspetta che gli smuto ora si che mi diverte guardate mamma ora si che mi diverte allora eccomi ragazzi si eviteremo ovviamente mutati eccoci qua allora devo stare io adesso allo vai vai si dai tanto ah ok dai ostò io vi invito bello raga i cristini aspetta squadra recente riesco a invitarli la Red Bull perché è buggato non mi li fa invitata la squadra recente andiamo i robbi t'ho invitato eh riesci a invitarli tu a me non mi li fa invitata la squadra recente devo andare su devo ricaricare gli amici aspetta mi sa ricarica un attimo gli amici così riesco uè buonasera Cirillo ti sei perso ah ti sei perso la prima parte del torneo abbiamo già vinto la prima mappa adesso manca solo Rebirth abbiamo vinto la prima mappa 3 a 0 ok ok è arrivata Desert riesci a invitare tu a tracciolino si yes eccoci siamo perfetto bella raga buona fortuna su Rebirth buona fortuna su Rebirth da a dopo ok raga l'ho mutati sennò non ce capiamo giustamente vai si parte signori si parte quanto tempo tutto a posto chi è stato dai buona prima Marco dai 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 adesso vediamo Rebirth che si dice buonasera Alessio vediamo prima mappa vinta da noi vediamo sulla seconda mappa cosa succede se bug è aspetta che non mi sta startando vediamo ok andata andata si era un attimo buggato ui c'è pure Luca del Sordo ma buonasera Luca del Sordo che è successo Lulita con i baffi what cosa sto leggendo ma Lulita non c'è a proposito signor avvocato vicepresidente inizio non c'è Lulita I think I lose my hand now my hand now da Bene again I think I lose my Livius mamma mia lupo No, 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 wei Se non faccio almeno 20 kill sto game, mi arrabbio Eeeh, dubbio Ah, mio Ah, mio No, no, per piacere, eh Ah, mio C'è un giorno che me lo fa anche mentre giocavamo a Herston, mannaggia a lui Mannaggia a tutto, bro Quindi ho giocato ieri con Luizzi e pensavo fosse Ulita Ah, ah, ah No, vabbè, questa è fantastica Ah, questo sta col chilo, col mirino, quello lì che si sbloccava all'epoca Come quello là col puntino blu, ti ricordo Mamma mia che c'è voluto, frate Eh, comunque te lo dico Qua secondo me è devastante, frate Eh, andiamo contro Oh, dico, vuoi dire com'è o vuoi trarre da un'altra parte? Metti che non ce ne sono contro No, 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 c'è gente, fidati, nelle mie lobby c'è gente Fidati di me Sarà il panico sta partita The panic Allora vi va l'ulita coi baffi Eh, vedi che quel mirino lì sul... sul chilo è tanta roba, eh Quello là io lo usavo Quello da medio è fortissimo con quel mirino L'M2 l'ho provato, Fabri, non va bene Pronto? Nananananananananananananananananananana Beh, non esco deca Frate, c'è uno che mi ha tolto tutta l'armatura L'ho detto io, zio Oddio, Lowen, non me lo prendere Ho preso uno in volo Malte contro Eh, prendo il biscotto, zio Eh, sono morto Ah, dai, avevo fatto una a terra, uno per cado Non ho preso anche una kill No, sono quattro Full team, full team, mi ha busciato dopo in tre Appena ho killato uno a terra Oddio lo specialista Addio lupo Addio Addio Amico Ma ci siamo sotto di due Tende vanno fatti Però mi sa che si stanno spostando quelli di tende Doveva aprirla Non sa se riesco a farmi qualcuno col cieco Vabbè dai Quindi non c'è più nessuno qui? Control Control non c'è mai stato nessuno Niente, sono scesi a tende quelli di control Allora Io bussionavo Non ci credo mi ha stillato la kill No No Hanno fatto uno stronghold Allora che ora c'ho le armi con gli stronghold Cazzo Ma è sotto fra questo No Non ci credo fra Mi stilano tutte le cazzo di kill bro Non morire fra no Non morire che siamo sotto eh Non morire siamo sotto Guardi non riesco ad entrare in No Sì ma questo l'hanno check inato A traccioli non so da dove Mamma che tryharder Eh fra mia lob è la tryharder bro No ma non è quello il problema Mi hanno fatto il lancio d'arbor No sono troppo Però Se mi prendo una kill Eh muoio No frate sono morto Cazzo Eh non riesco a ingranare Fra la nostra game bro Eh sì Siamo 2 a 2 Ancora tutto Basta solo Vabbè sono tornato No perdiamo Prendiamo sto cazzo di lancio Pusciamo prison Che stra pieno No Eh ho preso la prima arma E' stato Abbandonato Cazzo Sopra che tutta lì è piena Sopra che tutta lì è piena Sono chiati uno sotto di me Come stavano per rubare la kill Che quell'altro dov'è Eh va boh Chi si è di meno trans Chi si è di meno trans E' certo che trans Noo dan C'è voglio crede Ma ma è stato il mio E sta restando pure l'altro sotto Quanti Eh 3 3 3 3 3 al carrello E' appena morto il bracciolino Ma non mi morì Non mi morì Che sono deserti con la Se va a ammazzare Come on Come on Oh Siamo lì frate, non devi morire sto giro Eh beh ce l'ho sopra di me Nooo Eh allà chi c'ho le blixen Dai reg torna frate aspetta aspetta Dai 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 A posto Ho delle mie armi eh Stiamo sotto di uno Adesso adesso si prendiamo Eh fammi tornare fammi tornare Non guarda come mi ha ucciso Sul coltellino ho visto Minchia ma è pieno fra me ne vado sotto allora Me la camper un attimino mi sa Siamo sotto di uno ancora Adappi alla safe E' di due mo Niente Vabbè calma calma c'è ancora tutta la partita C'è ancora 20 persone Fag prison è un po' complicato Madonna sono i 3-4 sopra di me Vengo tutte sotto Ce li avevo sopra di noi Vedi che mo scendono C'è scendono da sopra Giro dentro menza io Ce li avevo tutti sopra E' sopra peccato eh Dai bagni dai bagni Dai bagni No mi ha nempato Eh C'è che cacciaio Ci dobbiamo morire noi Assurdo Dopo che mi spara da sotto Dopo che mi spara da sotto Io nasco Quanto stiamo E' 9 Bella sono morto prima che Ora siamo sopra di uno Eh ma desertico Un'altra Un'altra Una giocata Troppe persone Ho rubato una kill Bravo frate No Mi hanno avvistato Eh ma devo buttare la nave un attimo Nooo chi caccio è Sono morto Non ci credo porco No Eh Cado peccato Sto impazzendo Stiamo pari Eh hanno appena fatto di più a noi Frate Mi ha girato Tutto storto Tutto fra Eh vabbè dai 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 Questa mappa 1-0 per loro Ma 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 Vabbè Vabbè Però veniamo comunque da un 3-0 dall'altro lato Eh Cioè prima o poi dobbiamo perdere una partita Eh Eh ma Ma Potevo fare ciò Guarda Vabbè Quanti danni Tutti i kill È andato proprio un max Vabbè dai dai Allora signore la prima Ehm Eh ci sta Ci sta Non è che puoi vincere tutte le partite Prima abbiamo vinto 3-0 noi Ma hanno fatto 1-0 l'orge Cioè La palla è tonda No non l'ha visto Sta a sinistra Gli sei Non l'ha Stava uno nel gas a sinistra Eh Ho giocato a play Per forza Ah ok Ah ora l'ha visto però Eh hanno vinto Cioè abbiamo vinto la partita Questo aceframi è venuto a prendere sotto alla nave Cioè da solo Annaggia Se no ero vivo Questo qua che mi hanno tirato loro Che brutta s*****a Abbiamo mandato la foto Abbiamo mandato la foto del game Allora Questo torneo funziona a bracket Praticamente Cioè funziona che bisogna Fare 5 game Su Fortu Skip E 5 su Repert Però se il primo che arriva 3-0 Vince quella mappa Noi abbiamo fatto 3-0 subito Su Fortu Skip Abbiamo vinto la mappa Si passa all'altra Se pure l'altra la vinciamo Comunque pareggiamo Ma facciamo più kill Noi Ehm Praticamente Noi vinciamo E passiamo il turno Eh? Vediamo come va questa Poi fa mio stare a me Va bene Va bene Va bene Stavo dicendo Quindi Se noi praticamente Passiamo il turno Con loro Poi Ehm Nei giorni successivi Non mi ricordo Ci devono di la data Non mi ricordo mo' la data Forse c'è anche già scritto Non mi ricordo Praticamente Ehm Se passiamo questo turno Si va a giocare Con altri ragazzi Ovviamente che hanno vinto Il turno come il nostro Quindi mo' non mi ricordo Se Se siamo agli ottavi O ai quarti Però funziona a bracket Noi passiamo questo turno Andiamo per esempio Ai quarti Ai quarti Beccheremo chi è già passato Sino parlo con la chat Ehm Se passiamo questi Dicevo Andiamo ai quarti Con gente ovviamente Passata come noi Agli ottavi E così via Fino ad arrivare alla finale Eccetera 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 Ehm Però non si gioca quindi Tutto stasera Stasera si gioca questo turno Se passiamo Mh Giocheremo poi Nei prossimi giorni L'altro turno Allora GG Per me Un po' più compatti Fa dei numeri devastanti Tra tutti e due Sparate da folli Bella Mattia Buffa Allora Allora Lei cosa prevede Lei che è il mago Le ricordo Dai tempi di Verdas Che lei è il mago Cosa prevede Buonasera Peccato 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 Sono dove Dobbiamo O all'inizio Andiamo separati E cerchiamo di tirarci più che il possibile All'inizio Separati E poi dopo Sì facciamo così Io di solito In Wager Computer Scendo io a control da solo E lui Va io me ne scendo a prison io Buonasera Fabrizio Scendo La madò Ma Questo un po' me puzza Questo che mi ha gillato C'aveva il mitraglione fermo Che non rinculava I don't know Sì sì Stiamo avendo un mini torneo Rocco Ma si fredi? Abbiamo perso ste Eee Ma si fredi? Ci siamo Ci siamo Eeeh Stiamo Io sto usando Vari Eeeh Vari fucili Sto usando Il XM Il Grau Eeeh Ho provato un po' il kill Dipende Ma o sto usando l'XM Eeeh Sembra l'antana da control Eeeh Eh vabbò Però io vado preso Eeeh Cucina se sta Buttando team intero Eeeh Contro Non sta 5 minuti Mi ha buttato L'ossessorato dove vado io E mi ha rubato l'arma Vedo tanti in cucina No No Eh questa non vale Eeeh Minchia siamo morti così Niente raga Quando A parte che eravamo anche in pareggio Quindi alla fine non valeva lo stesso Abbiamo fatto 1 e 1 E qui l'abbiamo fatto 2 Eeeh Questa non vale Ah vabbè Avevo dimenticato di di Praticamente Se si fanno Meno di 5 kill Aspettate Se si fanno Meno di 5 kill Perché moriamo subito Non vale il game Eeeh E tra l'altro Anche se andiamo in pareggio Mo addirittura eravamo Sia a meno 5 kill Che tutti e due Eravamo a 2 e 2 kill Quindi Eeeh Insieme sommate Quindi Questa non vale Eeeh C'è qualcuno che non mi Di loro che non Ah ok ma caricato Ok Niente niente GG Niente Niente Il secondo game Invalido Sì ma tu Hai visto che lì Abbiamo tutta a destra Tutta a destra E nessuno scende a control La linea deve passare vicino a control Vabbè mo vediamo Adesso vediamo un pochettino No fra ma una cosa strana Di solito dove scendo io Poi la prison Scende gente Da killare subito Boh non ho trovato nessuno Però lui ne ha trovati due Poi non so dove Eeeh lo so Fabio Però è obbligatorio Nel torneo È obbligatoria Per il torneo Bisogna avere la cam Del monitor Al massimo La posso fare un poco Più piccolina Così ecco Fatta un poco più piccolina Ma è obbligatoria Tuturururu Tutum Per il torneo Per il torneo Comunque l'elicottero Mote scende bene L'albi Per te scende bene Teoria Dici con l'H4 L'OEN però non è male Vabbè ce l'ho Ce l'ho anche l'H4 Posso provare anche quello Di nuovo No ma noi dobbiamo fare Kill fra Matti Dobbiamo fare kill Eeeh Io ho bisogno del posto In cui è incasinato Perché mi devo tirare subito Via 3-4 kill Ah si è inculato la mia Vabbè per il fight C'ho livello 29 un pochetto che mi puzza un po' zia Non lo so Si è bloccato tutto Si si è bloccato tutto Ah vedete tutto nero qua Mi so Contro c'è più di un timbro Qui c'è il timbro di italiani Ma uno di livello basso Mi puzza Ma uno di livello basso Ho fatto Mi son buttato giù per sbaglio Eh dai Ok Ah eccolo qua Si tu se la sono cantata Eh Poi te lo giuro che non trovo gente bra Boh quello sta trovando tutte persone Sì Tra l'altro ho i 3 yardoni quelli che trovo io Cioè Sono uscito da control con una kill Trauma vi Uh 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 alla nave La nave alla nave Qui continua a trovare gente di là Vabbè a killare Boh Nooo parco 2 control control Madonna Mentre sparavo sulla nave Mi è arrivato uno da dietro Era pieno la nave Un po' di più 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 No papà a cagare dai Dai chi m'ha fatto Vabbè Non ci credo Ma come cazzo è possibile Porca puttana che perdo sti fight Oh calma calma Siamo sotto di uno Non so c'è gente fra un sacco Mi devi seguire qua La nave è piena C'è un full team Eh ma non abbiamo armi adesso bro Come faccio ad aiutarti lì Trovale Io non posso aiutarti lì fra te Io lo trovate Pure sotto al tunnel fra si erano messi Ma vedete se stanno ancora le mie armi qua Sono curate la mia mitraglietta però Buon shot l'altro Eh la staffa desert Ho preso io Non ce la faccio fra Non ce l'ho Fatti fuori fra fatti fuori No C'era una Una stringa qua sotto fra No Eh sono morto Eh sono morto Porco di quel porco Guarda guarda Però quanto stiamo Sopra di una Sopra di una Ma gli ha rubato le kill qua Che amica Prima che le fa lui Vediamo se C'è qua Se trova No Sotto che amica Non ce stanno armi però Sì L'ha trovata L'ha trovata L'ha presa Ma che culo Vuoto l'hanno messo a terra Anche se è pieno È pieno di armi Su Su chemical Oh merda Il grappolo No Sempre sopra di uno Eh non va Oh che palle Siamo pari No Non ci credo Si deve rifare Pari Oddio Siamo pari Di nuovo Prova rifatta No vabbè Incredibile E aspetta Faccio la foto Ma comunque Siamo pari Meglio Farà meglio Perché non lo riesco Ingranare Giocando come un bot Niente Niente Ancora un e zero Regà Ancora un e zero Appena hai detto Che culo È subito morto L'avversario E beh un po' Un po' di gufata Ci vuole Che è successo All'armoio Ogni tanto si blocca Aspetto che caricano Che a volte non mi va Vai Comunque Siamo bloccati il loop Signori Di nuovo in parità Cioè Bisogna rifare la partita Va bene Va bene Niente Niente Si continua Non ce l'ho Purtroppo non lo uso Giovanni 7 Del Nikita Comunque Vabbè Niente Signori Grau e H4 Aspetta Forse ce l'ho Eccolo qua Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Eh ma l'XM Ho visto squaglia Proprio l'XM Solo che Vabbè Io ho senso di bloccarmi lupo Se nessun rebore Non riesco A entrare nel In temperatura In un piccolo botticino In tempura T'ho detto Tu entra in tempura È un torneo Fatto a A gironi Cioè nel senso Cioè scusa A gironi Vole dire A Eliminazione Ottavi Quarti Semifinale Eccetera E si gioca Su due mappe Sia FortuSkip Che Revirt FortuSkip L'abbiamo vinta Noi 3 a 0 Qua stiamo perdendo 1 e 0 Sia FortuSkip Tu vuoi provare ancora control? Si si Ma comunque fra Se c'hai soldi abbiamo una possibilità Facciamolo in lancio Tanto loro si buttano in un'altra parte Tu fallo mentre se loro poi muoiono Molto tempo che devono tornare Tu almeno c'hai le armi per iniziare a fare i kill Si dovrebbero vincere dei buoni Amazon Mi rallenta e basta Se non Se trovo 8000 Sì lo faccio Se posso vicino a uno shop O se no ti compri un UAB Quando loro sono morti tutti e due Fai il UAB e vai a pusciare Eh vabbè dai Ma io sono iniziato bene sto giro fra Eh no Io cercavo nemici ma Vabbè vabbè Guarda quello sulla torre zii Mi sa che muoio di nuovo Invece no Niente questi stanno attaccati Adesso muoio allora No Non nó Tant lamino Puffu no 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 ma ma fatto alle spalle zio però l'ho confermato il mio frate ma come cazzo è che star ma guarda non fa niente dio santo ma già l'ho ho un oh ah qui è che ma già spilato Niente E c'ho 28 colpi dell'arma All'aghi Due partite così Adesso ci siamo C'è quel John Kennedy che fa paura Fra dobbiamo stare vicini Secondo me sta partita Ci tiriamo più kill via Non ho idea Ma porco di quel porco mi sto incazzando ma non sei mai spezzato le gambe così Eh Dio santo Siamo tutti i due No ho una mi sa Ma cristo dio da dove è uscito questo No Guarda là si è portato via le kill No, no, no. E vabbè Livello 49 No io non voglio stare zio Quanto siamo Io adesso come sto cominciando a francare No siamo sotto di un bel po' Fra la partita non riesco a scendere Come spezzo le gambe porco A tracciolino A tracciolino Ah resta non voglio lasciare la kill Guarda lupo 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 porca puttana come sto giocando Siamo pari comunque Ecco brodino siamo sotto di un bel po' Questa è stata porco di... No 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 Di nuovo pari? Di nuovo pari? No vabbè No vabbè ma io ci voglio che ne... Meglio che tutte le partite di merda che sto facendo brodino Pari niente due sono annullate quindi vuol dire che frate Da è impossibile Che è proprio statistica Non mi è mai riuscito No vabbè ma io ci voglio di nuovo Cioè continueremo così fino a Natale Ancora pari Ho bisogno un attimo di... Un attimo di... Di rilassare i nervi perché sto iniziando a giocare La smettiamo di pareggiare La scritta trancione Continueremo all'eternità E infatti mi sto incazzando ed è peggio Ho bisogno un attimo... Ho bisogno un attimo di... Di stare un attimo tranquillo perché mi sto incazzando ed è peggio Unbelievable Signore la terza pareggiata Perdonami bro ho fatto schifissimo sto game Ma gg che l'hai pergiato in realtà Non ci ho capito un cazzo sto game No lo so Mi sto inervosendo Sto perdendo la concentrazione Peggio 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 lupo fidati Eh? È peggio peggio se ti inervosisce Non ti preoccupare frate Lo so ma non è che io mi voglio inervosire eh Ah lo so È più forte di te Sì a livello di kill Luigi Abbiamo fatto lo stesso numero di kill Mi fumo la puzzetta va Non trovo come... Perché sto giocando così sti in realtà eh Ah non ecco proprio come Hanno fixato Non l'ho vista sta cosa Non l'avevo vista Manca nelle private Poi ci guardo Emanuele Grazie mille per avermelo detto Ci guardo Mo sono un attimo in torneo Poi ci guardo 5.000 No scherzo Tu provi sempre lì? Sì 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 Nemico in arrivo nell'area Secondo me io devo fare una tattica diversa Devo vedere dove scendono i nemici E là mi devo buttare Andiamo se riesco a fare bene a contro Sto dio Alla fine ho fatto due kill di starti a contro Non l'avevo iniziato a mano È la natale Però io c'ho un'idea malata Ma ce l'ho Non lo so Sto giocando malissimo Fra Malissimo Cioè Neanche con le wager a soldi Gioco così male Ma è tranquillo Ma non è vero Fra Sto giocando bene Beh là c'è un bel thing sotto di me Porco due C'ho io crede E niente Ma io c'ho anche sfiga Ne metto due a terra Se restano Quello può guardarla col bazooka Maccia la madosca Io non ho fatti due a terra Se sono restati tutti e due Non ho fatti due a terra 6 6 7 8 8 9 10 10 11 devo andare dove sono i nemici fra te a nova c'è un full team attaccato dentro prison e c'è un team moca fatto il lancio a nova quando a 9 non riesco a tirarli via fra giocano quattro attaccati e niente fai uno e c'è stanno in quattro nuova non 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 Traccato uno sul tetto, due sul tetto ne hai E' entrato uno? No, è one shotissimo, è one shotissimo GG No, ho sbagliato, ho sbagliato Eh, la... wow bro Che cosa abbiamo vinto? Eh, se fanno desert, dipende Il lancio è imprendibile, stanno guardando da torre, ci han sciolto, si ammette che traccio l'heel Eh, no, sono nato, sono nato Eh, stesso, giro, dammi, è girata meglio Che smirata, Dio santo, ma adesso devo spartare qualcosa Bravo, bravo, zio Bravo, bravo, zio Adesso mi dovevo... Eh, ero pure senza piastre Grazie per me un attimo Grazie per me un attimo Ho finito a panino Il lancio te l'hai preso? Non ci credo Ma porca puttana troia Guarda te Vabbè siamo up Siamo up Sì ma dei push Che non hanno senso Eh sto provando a fare pure io Sto forzando la mano Ma cioè Mo sono beccato due team addosso Uno dietro Uno davanti Di due team Assurdo C'è un pazzo per i qua dentro C'è qua c'è un bruno No niente Da living Da living Guardano La mitraglietta qua Eh ho bisogno del piastro Eh non ci credo anche io Ma c'è una blix Oh qua cassa di piastro Vieni vieni Non posso fingarle Vai Dai accusciamo questi Quattro a seconda Stronghold pure c'era gente Che doveva venire Qua dentro eh Eh lo so Sono sopra ho visto Non siamo a pushare sopra No io ti c'ho sotto Eh pushiamo dall'altro lato Pugno da te Non ci crena da dietro lupo Non a terra Ma ancora No mi dissocio Mi dissocio Sì mi ha urlato Dai 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 Eh quando vengono uno Uno contro uno Manna Laura 20 secondi Provavo ad andare a lodi Se muoio ritorno Alla fine Non mi dirai niente Ah perché potete tornare lì eh Ah beh Potete tornare le armi nostre C'è un'altra C'è un'altra C'è una gente sul tetto io Ti conviene tornare con la casa Un po' mi sa Dove c'è la desert Eh lo so ma mi volevo tirare un po' di kill via Solo che il nuovo è pieno Nooo Mi ha rubato tracciolino la kill No chi cazzo che mi ha rubato la kill là Vieni qua Teniamoci qua Ho preso una kill qua Una terra Una terra Eh lo so ma sono troppi A terra l'altro Vai pusho l'altro Interessato uno Attento che ho il bombarda io Vado 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 Su che Sembra le piastre eh No ce le hai Fa push a questo Oh sul tetto si è buttato Fatto 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 Stanno sul tetto mi sa queste eh Sì Fatto Una terra Mi ha tirato il bomba Dai non me lo restare Ok ma la data Come me E g Let's go Let's go Let's go 13-12 Dai 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 Sono rientrato in partita Nice 1-1 E io ho fatto uno star con 9 kill Ehm Manda pure un po' Ehm Manda pure un po' Manda pure un po' Manda pure un po' Dammi un attimo di respiro Un attimo di pausa Dai abbiamo recuperato Ci sta ci sta ragazzi Ci sta Capita capita Bella Luigi Buonasera a tutti Ci sta raga Ci sta Ehm Volte Allora Ho abbandonato subito Non vorrei che ci insulti come lì prima Buonasera Roberto Buonasera a tutti Chi su è collegato adesso Stiamo facendo un torneo Regà 2 contro 2 Ehm Stiamo perdendo questa mappa 1-0 Adesso siamo 1-1 Mi ho recuperato Venivamo da 1-1 persa E 3 pareggi Adesso abbiamo vinto noi 1-1 E quindi si continua Si continua Ora ti riconosco Ehm Regà Vabbè ma capita Allora Venivamo da un 3-0 Su fortune skip Poi Non ci siamo capiti qua Io pure Mi sono iniziato a nervosire A non giocare concentrato Sta partita Che sono fatto Una bella Non posso Non posso Lile La puzzona Stavo un po' più tranquilli Stavo meno nervoso Almeno sta partita Via E 1-1 Dai eh Non ce l'ho Non ce l'ho Domenico Non ce l'ho La Con 2 C'ho solo la birretta Non ce l'ho Red Bull Bravo Grazie mille Michele Eh il gravo è forte Soprattutto A media distanza Non ci sta niente da fare Gli spari Poi si Spara anche velocemente I colpi Cioè tu lo miri Mi sa che Qua sopra Dopo sta partita Continua a usare Grave Owen Fatto lo snack Dal bagno Che ti carica No no Che poi mi appesantisco Devo correre Perché Gli altri due L'ho mutati Perché non devono sapere Quello che facciamo noi Stiamo giocando 2 contro 2 Non devono sapere Stiamo giocando Capito Un torneo 2 contro 2 Antonio Allora Preparate l'attrezzatura E adesso Il lupo Mi caria Loro hanno vinto Solo una volta Da giusto no? Eh Sì Sì vabbè Però conta la mappa Però dobbiamo vincere Altre due qua Prima di loro Siamo 1 a 1 Al momento Non mi può andare sempre Di sfiga Frana Vabbè Calcola che avevo freggiato Selle tre volte Di fila Ma meno male Fra che l'abbiamo freggiato Ed era A me era saltata Sai con me Come era saltata Quella partita Avevo messo due a terra Si sono arrestati E mi hanno furchillato Ma d'ho scaduto Allora Buonasera Roberto Sì stiamo giocando Il torneo Dipende E che facciamo Al momento Abbiamo vinto Una mappa L'abbiamo vinta noi Adesso stiamo giocando Rebirth Siamo 1 a 1 Il primo che arriva A tre vittorie Vince Quindi dipende Dipende cosa facciamo Abbiamo fatto tre partite Pareggio Buono per me Contro Buono buono Io riprovo la tattica Di prima Ma se muovi di nuovo Mi ingazzo Loro sono andati Chemical Sono morto io Uuuu Dai non mi ha dato una cazzo Semi tragliata Però lì No Ho fatto una cazzata Eh non mi ero uscita Come prima Dai posso capire Non riesco a tirare la kill Oh la madonna Oh la madonna Oh la madonna Oh la kille Ma sono tirata Bra 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 Emma DVD Come No Chi si è preso l'elicottero Oh Ma guardate Mi ha buttato l'elicottero giù Mi ha buttato Tra yardano eh Loro Vogliono vincere in tutti i marchi Sì No Mi ha strunato Non ci voglio crede Non ci credo Ma fate perdere sto fight No 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 Non ci vuol dire Mannaggia la miseria Cioè Comunque Stavo Col mio elicottero lì sopra Lui ha preso l'elicottero Ma l'hanno buttato giù Non ci vuol dire E io ne prendo un altro E io ne prendo un altro Ma perché si blocca? E il movement Ok Scusate Oh che cazzo sta succedendo Oh chi mi ha preso l'elicottero di nuovo? Ah ah Ma sei proprio un pezzo di fango sei Ma sei un pezzo di fango Mi ha ripreso l'elicottero Me l'ha buttato giù di nuovo Oh 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 Mi ha trovato un agile sull'Anschio. ha finito da te il fai no c'è un altro no one shot nel segredo a quanto stamo ok ma ho fatto la clip ha fatto la clip è sceso sul lancio ma l'ha preso lui stavo boh devo stare nemici in se sa ma l'ha preso ma l'ha preso ma l'ha preso dai 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 poi c'è ancora il lancio nostro come sta andando allora abbiamo vinto una mappa noi e mostriamo uno a uno su questa fra e stiamo giocando ancora c'è 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 da bacchettare no invece se stiamo vicini ne facciamo di meno secondo me no non ci credo si è fatta due kill così no ma niente niente da sopra vai lancio non siamo più a vai pure al lancio vai pure al lancio o restami prima come vuoi no vado più al lancio vieni giù vieni giù ok no niente sottoline ehm abbiamo vinto noi ok dai dai 2 a 1 non riesco a giocare mi sa che appena finisce appena vinciamo vediamo se ho messo la foto giusta quanto stavi? 2 a 7 a 9 2 a 1 next vediamo se hanno caricato ok questa l'abbiamo finita noi ragazzi stiamo 2 a 1 siamo 2 a 1 per noi adesso siamo 2 a 1 affaticate ho dovuto perdere 2 elicotteri la sua buonasera immortale buonasera no ma tu ti sei perso la scena io ho preso gli elicotteri mi sono messo col mitraglione dall'elicottero a fare kill lui qua appena moriva scendeva col paragaduto e mi prendeva l'elicottero e me lo lanciava cioè vabbè in che senso te lo lanciava? e me lo lanciava me lo lanciava per distruggermelo capito contai dentro? contai dentro? eh si no 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 me l'ha fatto 2 volte me l'ha fatto col primo elicottero e col secondo con me dentro mentre sparavo dal mitraglione no non ci sentono non ci sentono che l'abbiamo mutati apposta ma anche loro penso hanno mutato noi eh perché altrimenti noi sentiamo le tattiche loro e loro sentono le tattiche nostre stiamo giocando contro questo è bazook pronto? 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 ma vatti cazzi tuoi nooo ho chilato uno e mi fa mo fotticozzi tu e mi stava perdendo qualcos'altro di brutto però poi si interroge voglio dire che sempre più tossiche le lobby devo essere in forma non dovrei fare dai 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 ormai che c'è il lupo che mi cani guarda no stavolta sta partita lo start l'avevo fatto bene poi dopo porca miseria quando sono morto ok mica me ne sono tirati via tanti me ne stavo tirando ancora altri se non fosse stato che è arrivato un team intero mi hanno pushato in tre poi a chemica me ne stavo tirando vari no comunque me ne hanno detti di tutti i colori fra anche l'altra partita ho chillato due italiani ma hanno detto che devo succhiare il sole si fra stiamo facendo un torneo io e lui insieme io riprovo la da oh se mi ritira l'elicottero giù eh non me va a terra no sulla torre a terra non c'è confermato bro a terra dentro di the water a terra sulla torre ancora a terra sulla torre posso stare di attack target skin in rientro in rientro in rientro in rientro basta dai mi sono fatto i due vili all'elicottero in rientro entro nella squadra io rientro in 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 rientro non Ryan non shaker da diyor no mi sta steillando le kill sono già due guarda che contro le pieno è infatti vieni qua no no non riesce sotto 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 ci salgono da sotto no ma usciato ma usciato data dietro dietro dovresti fare tutte le persone di libro quando mi puoi le clip ce l'abbiamo dove infatti non ho il tempo di farlo per confermato nessuno dei due cazzo e vabbè capita questa misura torre no non ce voglio credo ho vinto mi sa ho vinto finita quindi è misa di si fra l'ho fatto 31 adesso allora aspetta che le devo smutare pronto pronto eccoci eccoci che è sudata che è sudata stare per te che è sudata nessuno voleva perdere pareggi su pare 3 pareggiate potevamo andare avanti così anche ancora per un po secondo me potevamo continuare fino a natale con una bella bella sfida revert mamma mia ci avete fatto su da gg bella dai grazie game ma grazie a voi che è stato bello divertente ma quale quale lupo lunga vita al lupo che non crepi il lupo e no 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 infatti lunga vita al lupo si dice viva il lupo o viva il lupo bene dai buona serata ma per me ma se volete per me posso farcela anche una adesso in realtà se ci siete potete andare tranquilli però pure una invece dove parliamo tutte e quattro nel cil se vi va volendo aspetta che sento jules però penso che dorma se dovete andare andate solo se ne fanno una in quattro starta anche ora ne fanno una fuori dal torneo lus allora che abbiamo perso 3 a 1 3 a 2 mi pare no 3 0 3 1 albio ancora su discord ah non lo so e l'ivis 4 agosto semifinale ah si ho letto ho letto va bene speriamo che poi la finale sia prima del 10 perché io il 10 parto ah no penso sicuramente prima è il 5 ma dopo signori siamo in semifinale buonasera stefano wow la roppa vado a prendere la birra assolutamente ok posso levare la monitor cam si basta ok la tolgo raga signori siamo ufficialmente in semifinale siamo passati abbiamo vinto noi 4 agosto che giorno è 4 agosto a 3 agosto rega semifinale fatemi controllare che giorno è rega giovedì giovedì forte no so scarso si francesco abbiamo finito proprio adesso io io uso il grau io io la mia scoperta la mia riscoperta è buono adesso dopo che hanno fatto l'aggiornamento che hanno ripotenziato l'armi di mode warfare ho visto che era buono lo sto usando non è male anche il chilo l'ho provato il chilo oppure hanno potenziato anche il chilo allora stavo dicendo giovedì semifinale signori non mi ricordo contro chi dopo ci guardo sarebbe da capire gli altri cosa hanno fatto nel bracket a 3 agosto siamo contro tortellini e mammate a mi fa piacere siamo contro tortellini e mammate ma non ho letto bene dobbiamo sfidarci contro tortellini e mammate non lo so 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 guardo il bracket oh ma c'è chi è stato fatto la mostra finale non mi disse ho visto lì viscola cazzo siamo già io pure sto messo male vabbè mi ritiro un attimo e non dovrei morire niente sono morti oh tonno dentro contro va a bruciare eh hai visto l'u1 che bello quanto ho togliato quando mi hai tirato giù gli elicotteri eh vabbè io ho fatto io non ti preoccupa ah che start raga mi sa che ho finito la benzina ho finito la benza signori portate un po' di benzina qualcuno che va al distributore gli fa un incarico di benzina a lì questa è benzina ciao francesco carissimo io comunque in chat vorrei un attimo ma non c'è il ragazzo voglio assolutamente sapere allora ieri stavo con dei miei amici eravamo in un agriturismo facciamo una serata molto tranquilla ballare sai mettono le due musiche bla 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 dei miei amici stavano con dei ragazzi io mi avvicino con altri miei amici sai stiamo un po' lì parliamo per il tuo mondo una ragazza mi guarda e fa ma io ti conosco faccio come fai a conoscere scusa eh io non perché poi si parlava sai che scuola che scuola stavate qua a Napoli così colà eh comunque una di loro fa il nome della scuola dove stavo io l'altra no quindi faccio ma pure saravamo nella stessa scuola però loro erano due anni avanti erano due anni più grandi ma non ti ho mai vista no no non è a scuola e dov'è no è io ti conosco perché ahia perché mio fratello ti segue fa lei giochi a cod vero e io faccio eh sì giochi a cod ma che risate dov'è il fratello di questa ragazza dov'è Injad allora se mi date i monito ho 7000 facciamo il lancio metto l'annuncio ah 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 cercasi sorella del ragazzo che mi segue c'hai altri soldi no che ti sei comprato dai potevamo fare un po' mamma mia mamma mia vergognati oh non gli hai fatto nulla a questo eh meno male che lo sa no stasera stasera non ci sono ho giocato solo su fortuna eh fortuna si è secata molto bene ah anche qua in realtà oh oh guarda questo guarda non l'ho preso neanche io oh il francesco la baguette guarda dove è il francesco la baguette ce l'ho fatta tutte e due ma io mi dissocio no mi dissocio da mi dissocio da zero ma che sta succedendo qua sotto bomba pure ma da come l'ho dovuto killare no quel colpo un incendiario oddio stun granate non si è capito nulla boom 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 però dici che la kill me l'ha fatta lui ma me l'ha fatta lui la kill no no ragazzi non c'è un macello la su prison la prendo anche io iniziano tutti oh c'è l'ultimo lupo occhio no no è vero allora ma in realtà no tracciolino è ancora vivo là eh è niente non ci credo che è successo oh ma tutti silenziosi nell'altate eh mi ha s'arrestato quello uh nemico in arrivo mi sta atterrando sopra mamma che salvataggio t'ho fatto mi stavo venendo a push un altro mi stavo venendo a push un altro quando venire con ah non lo faccio io a capire no che scammata questo è quello con controllo mi sa che c'è gente sì sì maurizio finito abbiamo vinto noi adesso abbiamo la semifinale il 4 oh scusate il cane odia i cani i gatti il cane odia i cani i gatti odiano i gatti quando ho dai questo dove mi è sparito buona serata raga bella buona serata ma perché te la stai prendendo così a male zio eh non riesco a fare non riesco a fare niente sono bloccato è pietro un momento anche guarda questo come ho minato tr 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 tale che ricco tr 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 abbiamo vinto raffa abbiamo vinto ma oggi stiamo facendo una una partita al di fuori del torneo spettero 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 ma io te figlio uh me ne pinga uno sotto ma dalla craccato si devono salvaventare 4 e 18 eh no c'è un altro con un stealer di cacca figlio per questo vi siete a lezione vedete quello l'ho messo one shot mi sono fatto prendere dalla fama di volerlo killare c'è stava invece l'amico lì sotto non lo fate mai perché ho la bomba le coltellini fiendus coltellini fiendus frate tu con la sun guarda non ti dico che fini dovresti fare è molto bello e questi sono quelli che mi hanno killato alle tende ma buona dobbiamo venire fatemi sciù vedremo la destra beh adesso ho capito non lo sai oh quale è successo è craccato è craccato ah ha tirato pure una stu qua sopra si è lanciato oh what da dove dai sono safe sopra lui qua aspetta no arrivo l'ho craccato fra l'avevo no ma l'avevo craccato l'avevo craccato col cecchino avevo il cecchino in teoria si è ritirato mi muovi il culo no 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 vediamo a me mi sembro le piastre assolutamente e poi non c'ho le armi non c'ho niente perso tu oh no uh ma meglio questo ho trovato roba ma gg zio c**o i compagni sono al viol uno sta sopra il tetto team sopra il tetto si sta lanciato e muove il culo assist che so andrei a aprirlo il tetto lo giusto una casetta straccato lì dietro lì no no non mi sento a farlo perché sono un bottone e g ah poi morì con quello lì però no ne manca uno eh ma no fine salvatore grazie del follo tutto pezzo di merda si può dire si 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 però non me l'aspettavo non me l'aspettavo all'improvviso mi è volato un vabbè vabbè capita stavo dicendo stavo dicendo salvatore grazie del follo benvenuto allora allora eccomi qua che sarebbe di livius livius io stacco amico mio tu stacchi no un po' tra te se si non vedi che non riesco più a giocare ecco le so io ci mettiamo domani vabbè 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 stacco più la live anche stacca caduto stacca che ti stanno rindracciando stacca 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 tutto branda branda ale 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 niente tu ricordati il 4 abbiamo la semifinale esattamente bella e niente bye bye bro niente buonanotte bro allora signor ritorno è finito andate in pace no scherzavo allora oh raffaele grazie mille per le 100 stelle buonasera peppe è finito ripeto abbiamo vinto il 4 agosto abbiamo la semifinale volevo capire contro chi ma dal telefono non si riesce a capire lupo bianco ah no se ho visto bene contro ah cuba libera ha perso contro tortellini e mamma fc bello la sfida contro tortellini e mamma e e nulla tortellini quanto hanno fatto i game come si fa a vedere allora fatemi vedere tortellini primo game 15 14 11 5 10 3 porco 2 poi un'altra partita sono sparati hanno perso 26 a 16 poi hanno fatto 22 14 23 20 la madò e micca noi abbiamo fatto allora vi dico in totale le kill nostre il primo game 28 secondo me 26 e poi 11 a 10 poi 22 a 17 perso poi abbiamo fatto 25 a 11 vabbè anche noi abbiamo la media delle 20 kill praticamente e anche quelli che sfideremo hanno fatto una media di i primi game hanno fatto una media di di 13 12 kill 3 13 14 kill poi hanno alzato la media sulle 20 anche noi comunque abbiamo una media di 20 di 20 il fatto brutto è che proprio tra tutti quelli che sto vedendo che hanno giocato i game si è capitati proprio contro altri due bravi comunque perché poi dall'altra parte della semifinale hanno una media molto più bassa una media di 10 di 10 kill a partita più o meno oddio qualche game ma anche con 17 20 kill vabbò vedremo come va la semifinale stavo vedendo un po' tutti i risultati delle altre partite si si abbiamo vinto siamo in semifinale e no andata che abbiamo vinto noi abbiamo vinto la prima mappa 3 a 0 la seconda 3 a 1 ma dopo che abbiamo fatto 3 pareggi stavamo perdendo 1 a 0 abbiamo fatto 3 partite pareggiate poi vinto 3 a 1 allora io ho bisogno di chillare un attimo il singolo perché quante due ore e mezza è durato no un po' di meno due ore e un quarto il torneo mamma mia fra io mi do andò a pia una io che pensavo che fossi un bot eh io non vedo l'ora di ribeccarti ti faccio vedere un po' il bot che è solo mamma mia mamma mia a sera devi stare lì che devi dire non attacco perché attacca a truvo negli socio allora vado a prendermi nel frattempo una cosa da bere perché ho bisogno un attimo di scaricare la tensione è la gara anzi è andato pure infatti attacca a truvo a prendermi controllate l'attrezza controlla l'attrezza Grazie a tutti. Ah, eccomi. Che è successo? Spuntino? No, dopo, dopo. Oh, ma mi ha dato spacca tutto, regà. Fermi, fermi. Sì, esci dal singolo, così, proprio... Vabbè, avevo scherzato, scherzato. Ehm, perché mi dice che è off? No, non mi dire che sono uscito dal singolo e non c'è che ha staccato. No. No. No, ho abbandonato il singolo senza motivo. No, comunque dicevo c'ho i calamari, ma li mangio dopo. Dopo vado a mangiare i calamari. Quando mi beccherai sarò con le luvacchiotte sui cazzi tuoi. Aiuto. Eh, io sto aspettando che vi organizzate. Sto aspettando che vi organizzate. No, bro. Dai, non mi puoi far uscire il singolo e poi non è più online. Ma come? Un secondo prima mi invito, un secondo dopo è offline. Sta scherzando, spero. Oh? Non c'è più. No, ma c'è... Oh, vabbè, vabbè. Guarda là, qua. C'è il moderatore, signori. C'è Capoccione. Fermi tutti. No, ci facciamo le risate. Capoccio! Oh, ma che cazzo? Mamma... No! Salve, salve. Dai, dai. Salve a tutti, salve. Salve a tutti. Signori, direttamente con il buttafuori del canale Lupo Bianco. Direttamente con il buttafuori Capoccione, ovvero anche detto Domenico Fedele. Siamo qui riuniti per andare a perdere le partite. Eh, certo. Perché cazzo mi ha un butta. E di so. Allora, lupo, ho scoperto il mio vicino, gioca il ritorno di Bugs Bunny. Quindi ho detto agli altri vicini che è lui che urla con Duffy Duck, non io con Cod. Giustamente c'è Duffy Duck che lo fa best in armi di socio. Ed è staccato. Oh, via, dai. Fate il re, Birti. Andiamo a bottare un po'. Ah, so io il bottarello. Eh, ma tu mi hai invitato. Se lei mi invita, signor, buttafuori. Dico io. Allora, allora. Dai, 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 dai. Vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino che ci dice sto capoccione stasera. Saluti dal Pakistan. No, lupo bianco. No. Fai un spettacolo. No, che è successo? Ma non sono io. No. L'ha annaggiato questa bella, bravo. Buonasera, benvenuti. Pronto? Allora, dicevo che ci fai in Pakistan, Giovanni? Buonasera comunque. Ciao Mirko. Fai la Ulin. O la Ulivo. Ma faccio, dove stavi? Cioè, all'inizio ti cercava in chat, eh. Eh, manca caricata ancora. La boccio, eh? Eh, ora arriva, ora arriva. Se gioca da console entra più tardi. Eh, sì. Non mi ricordo se sta con la 4 o con la 5. Penso alla 4, visto che è carica. Eh, sta con la 4, eh. Lo sapeva. Infatti carica lentissima la 4. E' infatti, mamma, no. Minga, domenico. Ah, ma tu non sei c'era a stai, bro. Vabbè, dalle parti di frost praticamente. Capoccio, lo stavo dicendo. Eh, a parte che Raffaele fa il tifo per te. Eh, che stava di fra? Ah, ti cercava Rizio in chat. No, vabbè. Ti cercava Rizio in chat. Andiamo, dai. Dove andiamo, rega? Ma dove volete, prison, control. Scelga lei. Facci lei, facci lei. Eh, faccio io. Vada. Eh, dai, facciamo la cucina qua di prison. Dai, che c'è anche il carrello. Guardate tutto su di lui, non guardate su di me. Non guardate su di... No, io vengo da 2 ore e un quarto di torneo. Gio, giocate voi, mo. No, mi sono atterrato il sacco di loro sotto qua con i miei bagni. In cucina non c'è. Eh, c'è uno che mi sta inseguendo ai bagni. Ve lo porto, ve lo porto. Quando venire. Sta restando qualcuno sotto, raga. Io non ho un'arma. Ah, io non c'ho le piastre. Sali, sali sopra, sali sopra. Se vieni qua da me, bro. Sto salendo sopra. Ce l'abbiamo sotto, tra un po' arrivano, eh. Chi è sulla... C'è uno sulla torre col cecco? Sì. No, sono sotto, 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 sotto. Eh, ma c'hanno... Eh, c'hanno... Eh, c'hanno... Ah, ha craccato uno. No, no, non venite qua, raga. Non venite qua, che ci hanno circondato. Io me lancio. No, da dove? No, ragazzi, c'è uno camperato, che sporco. Mamma mia, che sbocco, ste persone. Incredibile. Vabbè, vai. Questo c'ha un'altra, dovresti sicuro, eh. Per andarlo a fare, per farmi la kill. Mi sono fatto un po' la chiareggia. No, 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 c'è un'altra, c'è un'altra. Lì dove ho pingato c'è un'altra. Eh, ma anche in lato. Bisogna, bisogna cambiare zona. Provo... Provo onda giù. Faccio sto sciacallino qui. Va bene. E si fa un lodi al volo. Io sto con la puzzona, eh, regà. Perciò levo la web. Non la posso fare live. Tista. Com'u' parendo, tango. Eh, c'è uno sorpreso. Devo andare sulla nave, io. No, la prison è piena. C'è anche sul tetto, eh. Dai, ma hanno pushato qua? Non ce credo. M'hanno pushato sulla nave. Quanti ne hai su? Eh, c'è un team intero. Qui sono quelli di contro con le armi. Ma dove ne hai? C'è gente. Occhio. Mamma, insegnami a ballare. Come insegnami a ballare? Vado. Lupo, se vuoi, domani ti contatto un attimo in privato. Ciao. Ah, certamente, certamente. Va bene, va bene. Domani guardo il messaggio. E niente, è impazzito, Raff. E' impazzito, Raff. Possiamo le armi? Eh no, cerchino e basta, no. Cerchino e basta. Ragazzi, vieni, 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 stelle, bro. Buonanotte. Andiamo a dormire, eh? Quanti, 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 quanti? Io non mi sto a uno. Due. Ma io non posso pushare col mitraglione. No, questo va... Va buon meglio, meglio. Bello. No, no, c'è... C'è un altro, c'è un altro, cavoccio. L'ho fatto uno, c'è stato l'amico, eh. L'hanno killato, l'hanno killato, l'hanno killato, l'hanno killato. Fermi, fermi. C'è un altro team che ci sta sparando, penso, da... Da living. Ci ha pushato, ha pushato. Per ragarmi. Ha pushato qui fuori, Fra. Fatto. Oh, l'assalto nuovo ho messo in corto, fa paura. No, è pushato un altro. Eh, perché ci stanno a pushare quelli di contro all living. Mamma mia, l'assalto nuovo da vicino fa paura. Che assalto nuovo è? Eh, il vargo nuovo. Ah, quello che trovi da terra, però. Sì. Quello da terra sto usando. Da paura. Ah, non è male, sì. Andiamo a dare... Questo quel bastone, guarda. L'ultimo, l'ultimo ce l'avete, ce l'avete l'ultimo sopra. Terra? E allora è arrivato l'amico in volo. Va dritto a te, eh. Che giro. Ti mani è tato? Ah, sta va. No, no, c'è, amico. Poi c'era un pallone portabile nelle stavole. C'era un partitone. Io, raga, vorrei far bill out. Eh, facciamo. Vado subito. Vado subitissimo. Oh, il vargo nuovo, forse? Sì, anche quello bianco, faccia a faccia, la squaglia, eh. Eh, mo' mi sono portato quelli là, via, solo con quello. Signori, ecco a voi. Vi risparo un UAB. Grazie. Vi lascio i soldi. Io non lo prendo ancora e lancio, ho due armi, non c'è male. Tutto 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 tutto. Ok, ci sono. C'è uno sulla torre di The Quarter, ho tirato un grappoletto. Lo metti nel comodino. la testa la testa sopra il camino porco cavolo chi è? è da prison c'è uno ma che cazzo è questo? mi hanno distrutto ma non ho capito chi ti è lanciato è sparito vedi che c'era uno forse al carrello mi è sparito qui guarda la gente là ho uno sulla nave eh ma dove? l'ha pingato ma non lo vedo ha il lancio sul tetto perciò è andato sul tetto vabbè ma non può non morire oh da dentro questo comunque club lo vediamo qui si già ci sono qua sono in mente dentro la casa sono tre no sono tre sono tre in casa ma non è stato anche lì sono tre adesso e non più hai fatto hai fatto fatto hai fatto fatto ha migliorato gg raga dobbiamo girare dobbiamo girare da no rimaniamo bloccati nelle casette di living no way torneo è andato bene Michele abbiamo vinto abbiamo vinto una mappa 3 a 0 una 3 a 1 siamo passati alle semifinali sono almeno due qua in casa da via su sul living su ho provato a spawnar ma non ha spawnato nessuno eh ma ci sono sono almeno due si no ho tirato la granata minchia ma aveva tutte le piazze con la granata spawnati 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 raga dai dai vai 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 è entrato da fuori uno madonna mi hanno fatto fuori bravissimo mi avevano busciato fuori c'è una maschera qua se la volete ce l'ho grazie a me a me a me a me pur io ce l'ho oh possiamo restare no no semifinali il 4 il 4 agosto non non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho col giul ti sta scomparendo ma quello dietro il muro ma quello dietro il muro e ma ma si tocca si tocca bombardamento non è che se mi tiri il bombard io non te killo dalla finestra che ascoli per caso non devi dire qualcosa no una sola io 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 ci l'ho pushato sotto ci l'ho pushato sotto a me aspetta l'altro so tre so tre proprio fuori da noi qua terra non è l'ultimo e l'ultimo e mancano almeno due fatto fattore ma culo a 17 guarda quello guarda quello c'è sun bay mamma mia a 18 via capoccio gg quando quando vado quanto vuole usciare con bombarda magari non è non è in africa magari guarda no non ce l'ho fra guarda se ti faccio vedere l'account aria geografica milano lombardia la posta stato io a evoca boccione e capoccione burattini della milano guardia lupo te ne rifai un'altra? dai facciamo un'altra facciamo gioca ancora fai gioca ancora capoccio 18 bombe con la win ragazzi grande frate grazie mille raffaele lo so e vabbè comunque l'automatino da terra è una bomba raga veramente è una bomba non me l'aspettavo però quello leggendario ho trovato quello leggendario ha fatto il macello meh 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 ha fatto veramente il macello raga quello leggendario da terra squaglia va bene bella Gianluca buonasera buonasera e facciamone un'altra wow una bella partita che è successo qua scopri i successi iscritti da Federica Abate chi è? non la conosco ma in realtà è una notifica di Spotify scopri i successi di... qualcuno conosce Federica Abate? chi è Federica? Federica? ma sei tu Federica? lei Federica e lei Federica Abate? no non è lei Federica Abate bella Antonino buonasera peccato eh chi si è collegato ora si è perso il torneo che abbiamo giocato eh vabbè rimane comunque salvato eh eh quando finisce la live rimane tutto salvato però era bello da vedere in live sono le 23 e 49 infatti l'automatino cioè non squaglia così quello lì che ti fai nella classe normale è forte per carità però non come quello che trovi a terra mi muove e mi muove il cu no ciottino tv chi c'è? ciottino tv chi è? ciottino tv per se io non lo conosco eh io si l'ho già beccato altre volte forse pure in un torneo l'ho fatto l'ho fatto è chi l'ha? l'ho fatto forte allora passa il grau no bello il grau bella Fabio comunque però andò però andò buonasera Giorgia Meloni ancora oh Giorgia Meloni ogni sera la becco si vede che ha dato ha dato le le dissolge ecco la Giorgia eh sì eh sì c'è bisogno c'è bisogno beh per la campagna contro i cheater su COD ti muove vedi capoccione capoccio ti ho fatto fa pure la vittoria capoccio grazie a me oh Fausto Bombularo mi sa che stasera si sta divertendo sta pescando sta pescando vi suonano di nuovo? hai cessi? vai 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 alle dolce così giochiamo come vi cito mai come si dice da me lavati e pisciati e via stava di pisciato ah come tu il lupo ah io gli sto raccolto mamma mia grande carmine capocchio no mi hai fregato tutto il check ma c'è a te mannaggia eh ho frito le munizioni proprio nel momento sbagliate non ci credo c'è un'altra c'è un'altra da te no vai vai ci sta non c'è un'altra non c'è niente c'è qui lupo 100 passi in fondo c'è un assalto sono dall'altra parte sono due sono sempre il solito no mi sto piastrando mi raggiriamo penso che pushano loro tra poco metti una bella clean quale tetto serve un'arma raga sarto un po' complicato sarto un po' complicato uno è sceso davanti a te luco nice delicious nice nice si vabbè avevo girato l'angolino sotto di me ma avevo girato l'angolino ah ma sono in quattro la prison allora niente scappo no scappate ma molto strano come mi ha preso avevo pure molto strano ah eh ma sarà su fortnite fra eh può darsi che sta giocando a fortnite ah lo sapevo hai donno hai donno regà una cacata eh a mi me gusta la patata no come l'ho fatto no eh davanti penso che sia più di uno lì eh sì 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 sia più di uno eh dimmelo prima madonna no cioè regà l'armaguerra mi ha tirato due colpi sono andato a terra è devastante ma oh la uso io non fa quel danno don't die don't die please stay safe please stay safe please stay safe playstation playstation train station train station vabbè comunque uuuuh e niente ha matto la brucia forse si può prendere il lancio io vado a puffare arrivo sul pallonfino fatti il pallonfino ciottino ti ha buttato guardamente no 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 da noi dove ma è impossibile vediamo io sento mio nonno che no no sopra è libero no è sotto è sotto si può sapere no sono tutti sopra lupo 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 vabbè vabbè io ci sono oh ma quanti sono qua sopra ce l'ho detto eh ma si è buttato si è buttato sotto dai dai non mi muore no voglio mettere a piangere oh oh io faccio getti giù getti giù getti giù andiamo via strada ah posso entrare no 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 ahia ma quanti sono qua sono quattro evidentemente eh quattro stanno mi ampeando spara e basta capito anche che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è combinato a chi preciso vado un è sopra l'ultimo è sopra no c'ho due il mio si è restato fra nemmo messi un'altra terra si è restato ah no non c'è restato l'ultimo sopra allora c'ho due il due è sopra era il team di ciottino no ma è pieno è pieno viatele ce l'hanno un sacco ma pure qua guarda qua ma sta nuvolta fare roba ma vergognati costumato costumato diamo con il like ragazzi ma con il like la condivisione un aperitivo lo sprizzettino mojito no di quel porcellino di ce ne voglio via ordo ordo mina a terra mi come spara le spalle e lui che me va c'è una marea di gente ma chi sono usciti peggio del coniglio raga se devi mettere la mano mi fate un favore no si sono buttati a nuova si sono buttati mo torno no 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 c'è uno qui sopra capoccio sparo giorgiano è uno capoccio no guarda questo guarda tutti e se ne è uscito fuori è arrivato aspetta che si torna da una mano ma ma si è buttato giù perché ci aveva le le armi sotto quando è morto l'avevano filato sotto ma pure a me sono tutti sotto giorgia meloni altri due aprision qua e me li da dammi sembra un assalto c'è il mio altro armato se lo vuoi eh infatti l'ho preso un altro la nuova devono salire sono finiti ciottino ancora ma ciottino ancora vivo allora raga vi lascio vi lascio questo one blu se vi può servire arrivo vi lascio due gaffe a tutti guarda uuuh da prison ma capoccio vi ha dato un biscotto vedi che da qua te vedo vi ha dato un biscotto capoccio non la madò ragazzi una terra sul tetto eh io sto guardando nuova raga è qui 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 vai a terra c'è anche l'altro è fuori oh tutti a terra no quanti erano uno è rimasto uno solo bro io c'ho la maschera lo stai animando lo stai animando eh niente provo a scendere da te e ce l'hai la maschera no non c'ho la maschera no no sta rianimando ora non c'è credo no non posso non c'ho manco la maschera ah incredibile porcaccio addio no non c'ho manco le siringhe ma è tutte e sette no porco due eh non c'avevo il mio loadout con le siringhe peccato 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 si sta scomparendo capoccione eh ti invita tu me sa invita tu capoccione invita tu allora va mi inizia ad essere cotto che ora è mezzanotte sto facendo vecchio mi sto facendo vecchio devi invita tu che hai fatto capoccione capoccione no anche perché no in realtà stamattina allora ieri che ora sono andato anche io sono andato a dormire non mi ricordo ehm tardi perché sono tornato tardi però stamattina tipo le 10 10 e mezza 11 ero già sveglio raga sono andato a fa che sono andato a fa un cacchio ehm no sono andato sono stato qua hai crashato il ragazzo non 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 entra no ha staccato lui ha staccato perché domattina si deve alzare presto ah ok ok mi ha invitato mi ha invitato cosa dai ti invito di là allora stavo dicendo niente che oh capoccio ma che hai fatto sei andato di là poi te ne sei uscito poi sei tornato che è ma no sei bloccato tu ah sei bloccato mi hanno invitato però non mi fa andare ah allora aspetta invito di qua allora dicevo sto lavorando la nuova canzone quindi c'è un po' di cosa anche con la musica da fare quindi stamattina appena sveglio mi sono messo a lavorare fino a stasera poi ci sarebbe ho fatto il torneo sono mezzo cotto sono l'uvo prosciutto cotto bianco allora niente se blocca non se devo usare il mouse ma gli altri non so perché non fa sto problema se devo usare io il mouse mentre ho il pad inizia guarda là che sta combinando guarda là guarda là non mi fa scorrere la lista amici annaccia la miseria tu lo riesci a invitare no mi dice offline come offline no the warrior c'è fra lo devi invitare guarda parco di quel fa un bagno aspetta ho staccato ho staccato il pad l'ho invitato io ho staccato il pad non so perché è come se tipo andassi in contrasto vediamo se lo fa entra vai l'ho invitato due volte ok allora eh no non è che si è bloccato vedi che fa quando voglio usare a volte non sempre quando voglio usare il mouse e anche il pad va in conflitto però io mi trovo da pc visto che sto da pc a fare col mouse no ma l'ho invitato ma non non viene mi sei bloccato l'invito bro sta caricando ah mi sei bloccato l'invito sto caricando ok ok vediamo secondo me capo ciò c'è due problemi perché non riuscivi a entrare tu da lui infatti quando vado su di lui per invitarlo mi da tutti i lucchetti ma bravo ma 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 niente siamo rimasti bloccati così va bene gg perfetto complimenti 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 vabbè io mi sento un attimo ho messo la canzone in sottofondo oh è entrato entrato si è sbloccato a posto vai 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 che cazzo no è andato a dormire no è andato a dormire ah sento l'eco è ora di cambiare il computer ma non è colpa del computer fra è copica voce uh fermo perché mi ha invitato fermo un attimo fermo un attimo e ogni volta aspetto devo ristaccare il pad perché sennò non riesco a scrivere no mi sa che sta avendo problemi pure io ho scritto un sussurro a uno non me l'ha mandato no si blocca mi succede ma si sta bloccando quella cosa lì ogni tanto lo fa anche a me che si bugga proprio sia la chat che interamente è per il gioco vabbè vai parti parti poi se si sbagga è la playa discoteca è la playa discoteca ma è calor sapere partire ti sta quando è così devi riavviare eh ma mi scoccio riavviare ti sta scomparendo tanga tanga mezzo alle chiappe bike e cavoccione no no non trova la partita da di te un computer cavoccione deve citare se no non fa una kill ha bisogno del wallhack per cambiare parabarapapaparabarapapapa niente non mi manda il sussurro gli ho scritto il sussurro non non è partito ah eh no abbiamo abbiamo in squadra bobby 22 centimetri che succede là Chi è stato? È stato Bobby No, il pad Non mi legge il pad No, no No, sono mouse e tastiera No, no, non mi apri il paracaduto No, no, bro, devi uscire Non mi apri neanche il paracaduto E dice nessuno, apri i paracadute No, bro, non posso giocare su tastiera No, non ci credo Adesso mi ha inviato il sussurro Ma, scusa, ma io non gli ho detto che mi devo Ma va a fare, guarda, guarda, si è impostato su tastiera e mouse Vabbè, a posto, ho fatto Mi sei comprato tutto per un gazz Fra, non ho tempo, bro Non ho tempo al momento, ho veramente un sacco di cose da fare Ho la musica, devo rifare un po' di cose di musica Sto offrendo una canzone Me l'hanno chiesta di fare un'altra Non sto nel macello più totale Code, i tornei, le live, troppe cose Avrei bisogno di una giornata di 72 ore Eh, bro, puoi andare? Ma faccione? Ma non li sento manco più, mo Sì, 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 sì Ah, ok, ok, mi sento, mi sento Pronto? Pronto? No, se ne è uscito 118 118 Pronto? Tic toc Uì, tic toc Un saluto Giuseppe Giuseppe Only fans No, ha cambiato tag, mi ti so No 30k al mese però si fa, eh Only fans No And live for Only fans No, no No, mi ti so Il pad è iniziato a dare i giochi In che senso i giochi? I giochi? No, a volte va in conflitto Perché il pad è quello della play Quindi il pc è microsoft Quindi a volte che capita che va in conflitto Burrito Meno male che non me l'ha fatto intorno io Oh, oh, oh Un bazzito Ma? Cioè No, vabbè Questo è rimasto Ma perché c'è? Eh C'è stato qualche team italiano in lobby Eh, già ne ho chilato qualcuno Uno l'ho chilato E mi fa Ma 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 Ah, è il mio Io l'elite Eh 400 euro Ecco muiamo Manue Puoi start aggressiva a control Manue Ecco muiamo Detto sopra sotto Passarella Io vado passarella Tutto bene Manue Tutto bene Buonasera Dai dai Scusa ma l'elite non c'ha Assistenza Non puoi contattare con l'assistenza Sì ma quanto Ho capito è un casino Con l'elite A me me l'hanno sconsigliato Il socio Qua capo ciò Guarda confermato col coltellino Capo ciò Sta tolto il coltellino Inizio partito Arrivo Ci sei Adesso No raga Guarda questo botto Guardate Porcocci Vita Si è fatto atterrare un'altra volta Questa Con la rose Che schifo Che fatta Non è rose Non è rose C'è con l'altro Operatore Il milsilm lì Quello là tutto scuro Ah il rose Il rose maschio Eh Bad memories No no è ancora fuoco Il rose maschio Bad memories One more I think you say I think lose my head No l'NZ Non va più Benissimo Virgilio Bro L'hanno un po' nerfato L'hanno Prendi e porti a casa L'hanno nerfato Eh A bestia se l'hanno nerfato L'hanno depotenziato L'uomo ti saluto Saluto Volo Atteniamo Il bambino di Manu Secondo me anche in gioco Volevi andare sull'opzione No non lo fa fare Quando sei in partita Non fa cambiare No l'input no Non fa cambiare Non fa cambiare Se parti col mouse Non te lo fa cambiare in game Perché lui praticamente Quando ti trova la lobby Te la trova anche in base All'input a volte Non sempre Però Però cambia un po' il match Uno sulla torre Aviamo i soldi Per i soldi Vieni Vieni Giuseppe Giuseppe Ma pure senza quelli Giuseppe ci arriviamo Affinché lose Ma è ancora piccolino Giuseppe non facci Venghi Venghi Giuseppe Sono sotto io però Arrivo 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 da lei Avoccio Muove Soldi allo shop Giuseppe Se ne sta per i fatti sui A pushare Giuseppe Sta trajardando Per tiktok Così No però All'infanzia No è il socio È il socio Auguri domenico Perché auguri domenico Ancora compriano due Qua pure Basta Voi finiti Festa è già Manco offri Vantaggio al centro No Ma è andata Con il cecchino Ma che faccio No All'infanzia Che questo Vì Ci divertono Ma 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 No 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 Aiuto La panchina Dal muro Dove, dove, me lo pinghi, dove Lo devi pingare Sol bomba Non me lo fa tirare Non me lo fa tirare perché qualcun altro ha tirato un bombardo Mannaggia Non me lo fa tirare Sto cazzo di bombarda No, non riesco a prendere Mi sta guardando, mi sta aspettando Oh, no Ma dove sparano questi? Ah, guarda noi Ciao Oh, ma dov'è? Ciao, Angelo No, da te, da te Ah, vedi che a volte può essere il cavo Che da problemi A me una volta è successo Me l'ho dimenticato A terra Bravo Bravo Vieni, vieni, vieni Possiamo 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 Andiamo da qui La madonna quanti sono No, ragazzi No, io Cioè qui Io, io ragazzi Gli ho sparato per primo Credito Oh, mi è sparito Dilanciato 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 Era qua, bro Esatto Dora Giuseppe Ciao Giuseppe Saluto a Giuseppe Eh no, era saluto a Antonio Mi ricordo, mi ricordo, Manu No, dove va il king Prove il lancio 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 Eh, lancio Proviamolo Oh, eh Ma, ma Ah, mi stava già guardando Ok, ma l'ha già visto Andiamo da sotto Mi è partito un Babilonia nelle orecchie Bello No, vabbè, regà Io ho visto Giuseppe In diretta Quello capo 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 Ma che fai Mentre lo stai mirando e sparando Ci metti di mirare a sparare Capo Capo Ti sei emozionato Mi ha chiamato che sono one shot Qui ragazzi avete armi che avete visto Eh, stanno a guarda il lancio Questi Ci sono armi, è qui sotto L'uomo No, no, ma io ho preso le mie Ah, non ti hai preso Però che non c'ho le piastre Beh, però Giuseppe Cioè Oh Giuseppe Devi resta vivo Giuseppe Sien da me Trova una lupacchiotte Facciamo un po' di contenuti Sull'altra piattaforma È meglio Oh, ci ha buttato uno qua sotto Guardate, perché questi Ora risaltano giù come coniglie Ui, coniglio Non c'ho le piastre Sì, la sopra Due sopra Due sopra di noi Due sopra di noi Sopra di noi Sopra di due Eh, vieni, lupo, 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 lupo Belle Eh, ce l'abbiamo Pronto sopra Comunque dobbiamo salire Ah, io ho trovato Ho trovato Minchia, ho trovato la saccoccia Senza piatta Eh, in fondo, in fondo Puoi provare a bombardare Anche nel caso No, no, lo conservo un attimo No, aspetta Ah, tanto si sp... Sono troppi passi rispetto ai nostri Eh, perché stanno sopra Due metri Due metri No, 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 sotto, sotto, sotto Anche No, no, sono saliti sopra Vabbè, tiro il bomba, dai Oh Sfidi i pollo No, c'è, è sceso l'amico Ma va, tassa lì che c'era il bomba E' attivato il pianeta sopra Del pianeta Non è cazzo questa? Sì, è uno sotto E' lì sopra, siete sicuri? Il bombardo Ah, dobbiamo andare contro Comunque, regà Buttiamoci Si, prova No, è sotto di me Sotto di me Mi fa in volo Anch'io 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 Addio Sono morto io Guardi Sono Ok, sono safe Questo mo' ci sale Oh, cambiami l'arma No, no, è salito Io sto senza piastre Eh, io ho una sola Eh, guardate C'erano due sotto Bombardamento di precisione Sì La, raga, la, la Attenzione One shot, one shot Non mi fate confermare One shot E' qui, e' qui E' qui, e' le scale Alle scale, alle scale E' andato E' sceso Io resto, copri Ma eserda una piastra Quattro Oh, mi Oh, ci siamo Quattro, quattro, quattro Ah, è sì Pum Oh, chi l'ha visto Oh, sì, veramente Non l'avevo ne sentito Ne visto Porco, due Non me l'aspettavo Peccato Eh, peccato Secondo boss Sto partita Eh, peccato Peccato Eh, ma è rimasto da solo Contro un full team Vada Peccato Eh, abbastanza Sta lobby Abbastanza Tocando 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 CACO I Tocando A B C E E C S E capoccione, e capoccione, e capoccione, e capoccione, e capoccione, non si sa. Chi è che mi ha taggato? Menzioni. Ah, tu, tu mi hai menzionato. Yes, yes, yes. Ok. Wow, c'è il Zendax. Fa vedere se... Dai, se è solo, lo invitiamo. Mi sa che abbandoniamo il povero Zippo. Ragazzi, salutiamo Rizio. Dai, dai, un saluto a casa. Un saluto a chi vuoi salutare, capoccione. A Rizio. A Rizio. Non vuoi salutare sorella, fratello, qualcuno? No, no, stanno tutti quando a dormire. La moglie, tutti quando a dormire. Niente. A voi, c'è sta dormire che domani va a lavorare. All'esercizio. Oh, lupo, ma ci viene il mio matrimonio a cantare? Assolutamente. Pa-pa-ra-pa-ra-pam. E capoccione si sposa molto presto. Ha detto che farà due, tre. Due, tre. E lupacchiotti. Ma va bene. Perché uno è troppo poco. Qui. E' zippo. Due, tre. Due lupacchiotti. Fa capoccione. Una buona intenzione. Gua, sai chi vorrei beccare, proprio? Ma a quest'ora non gioca, guarda. Vorrei beccare Violet. Ti ha bloccato, non la puoi beccare. No, alla fine non è riuscita più a bloccarmi, bro. Fa, eh, non lo trovo, non lo trovo in lobby recente. Non lo trovo. Una volta apposta, mi ha bloccato. Secondo me ha fatto scena a questo punto. Oh, io gli ho scritto in privato. Non ha risposto. Poi fa... Fammi cercare se è in chat, fa. Poi fa... Non c'è. E avrà un altro nome. No, zì. Se è benissimo che mi chiamo Lupo Bianchi. Anche. Ma comunque, lupo, se ci tocchi... Cacchia, invita. Quando ci siamo anche insieme. E con Violet. Ok, ce l'ha con me perché l'ultima volta si è messa a piangere in live che dice che l'avevo stream senza imparato quando stavo col team che ci stavamo allenando per il torneo. Non c'avevo neanche il telefono di fianco, niente. Stavo in live che mi stavo allenando per un torneo. Quando l'ho messa a terra, no, ho letto il nome e l'ho riconosciuta perché comunque so che anche lei gioca Warzone e che è l'unica che può avere il nome I'm Violet. E allora, quando l'ho messa a terra, gli sono andato vicino saltellando per salutarla. E se... Quella è iniziata a dire... E invece si è incazzata. E si è incazzata. E tu è... Questo lupo bianco. Ancora lui, ancora lui. Cioè... Pobbettino, ragazzi. A voi. E... Cavical. Pusciamo il povero... Arbor. Io già sto andando, eh. Capitato di sott'anno. Ma io mi sa che sta venendo lui in bocca all'uovo. Ah. Ci ha buttato lui a noi. Ma che? No, vabbè, il grau è qualcosa. Rana tosta. Raga, sta volando sta qui. Che gente posso... C'ho la rana tosta. Ma in che senso? Ah, va, ne è buono. Ma voglio. Ne è buono. Ah. Qua, ne è buono proprio somma. Ma che ne è tolto da per terra, che è? Un sol grau, un sol grau, Ivan. Secondo me è molto meglio. Infatti, io no, lupo. L'automato non ha... E il bello è che un annetto... Dopo ti donna. No, fra grau mi fa impazzire. No, sì, non è male. Però mi fa impazzire il grau, sincero. No, guarda quello dove... E' bello che prima di questa cosa, un anno prima, lei aveva fatto... Ehm... Amato lupo bianco, che bel nickname, mi piace un sacco. Ho un lupo tatuato sulla coscia destra. E poi... E poi porco due... Mi vuole bannare dalla chat perché l'ho chillata in gioco. Ma porco zio. Prima mi fa lupo, lupo bianco, moi. E poi porco due. Che è succedo? Soffriamo di bipolarismo? Oh, ma ce n'è uno ucciso, col cazzo. Oh, che cazzo fai? Non mi devi salire scalette, sei scemo? No! No, ma che ce fa questo bombero da qua sotto? Non ce n'è andato. Non me l'ho aspettato. Non me l'ho aspettato. C'è te su, che lo faccio a tirare. Bella sta granata. Boom. E' lanciato il confetto, capoccione. Allora, da tico tico a ti blocco... a ti blocco è un attimo. Dico tico a ti blocco è un attimo. Boom. Boom. Esci, esci. C'è il zendax, bro. Esci, esci. Peccato, peccato. Eh, io sono sceso a prendere il lancio, ne ho killato uno, c'era il full team. Non lo sapevo. E ho il singhiozzo. Bella, fra oggi, è andato bene. Siamo arrivati... Cioè, abbiamo vinto, siamo passati in semifinale, ma ho. Uè, zendax. Bella, fra. Bella, buona sega. Ciao. No, quella gliel'ho già fatta. No, no. No, vabbè, vabbè. Ma dissi se pazzova. Non ci credo. Cioè, io gli dico... Quella mi risponde, l'ho già fatta. Sono riposato. Ma è del mestiere, questo? Vabbè, è partito in rama. L'ho già fatta. Ah, come... Eh, io mi risoro. Pam 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 Ui, è incredibile Però danzava come una donzella Eh, bro Allora, lui posso guardare un torneo mondiale L'Italia non c'è proprio Ma in realtà, da quello che so A breve ci dovrebbero essere Delle qualifiche per i mondiali Di Call of Duty E qualche italiano c'è Però bisogna vedere se riescono a passare Non è facile Diciamo che l'Italia Ha bisogno Di un po' di tempo Siamo un po' arretrati A livello di competizione Secondo me In America da un botto fanno sta roba Da parecchio proprio Da tanto sono molto più allenati Secondo me E ti piace capoccione E ti piace capoccione Ti piace capo Ma capoccio Ma ti piace quando ti muove il booty È una colombiana No, è una colombiana Che muove il suo booty Ma questo l'abbiamo beccato La partita di prima E' back qua Sì? Eh sì Che sta Mi sono andato Ma poi era da solo qui Beh, mi sa Mi sa che guarda la live Ma capoccio Ti piace quando ti muove il booty E' ancora yebac Ma poveretto Regà sto yebac Ma che biscotto ha preso questo Devo fare una clip Farei Facciamo la clip Gli stavamo sparando in due Speedy Speedy pure nella lobby di prima bro T'ho capito di uno qua E speedy è forte E l'ho beccato nella lobby Era nella lobby quando abbiamo fatto il torneo Cazzo Devastante Eh, cioè Mi ha rotto parecchio le scatole Eh, ha preso il cazzo Ha preso il cazzo Volevo dire Bravi, bravi, bravi L'angelo Riusciamo a farlo? Sì, sì Wow, vi ho lasciato i soldi qua Fatelo E stavolta non mi dissocio Perché prima mi ha rotto le scatole in torneo la taglia e speedy è proprio lui la taglia c'è il karma mi è partito hardware nelle orecchie zentax le hai prese le piastre l'avevo lasciato in terra anche ma io ho preso una cassa in modo tale mi trovo costretto a mutare è idwater secondo me il team di speedy non vorrei dirlo ma no vabbè craccato uno col bomba dentro il gioco ok si va a fuggere il zio lo sapete al suo trucchetto è sceso no lo sapete nice ma da quell'altro dove si era messo no italiano medio italiano medio da nuova da nuova oh mio dio no vabbè ho cheatato con il grau bro qua proprio no no questi se fanno una clip su sta roba qua veramente mi accusano di cheat senza mirino preso è lui è lui è lui è prendi il biscotto no 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 io devo fare un'altra clip fammi godere sto mangiando minchia questa te la dedico bro questa te la dedico sta giocando su quei due buon appetito fra ma stai mangiando a mezzanotte e trentotto è impazzito questo si è suscitato a mare un appetito comunque dicevo ah no c'è c'è ancora sopra non l'ho sentito neanche questo sdraia no no eh vabbè no l'ho fatto eh juggernaut no way infatti lo sto cercando di prender sono 8 kill ma sta già morendo la lobby siamo in 18 eh regà tutte e due qua tipo no no l'altro è ad harbor prendetelo voi faccio un Wav provando a prender l'altro io bro dai guardate come mi pare uno è sul tetto di Nova o lo prendo io oh questa è forte bravi ancora napalm eh ha preso un altro napalm ha preso prendete venite eh ma è ricco bottino di tutti ah guarda quelli due su id quarter che mi stanno sparando zentax ce n'è uno dentro qua mi viene da una mano a id o te ne sei andato e prendi il biscotto no l'hanno preso certo regà certo regà certo mo ve lo faccio vedere eh se mi date tempo devo far comando in chat se mi date tempo ve lo faccio avete preso voi regà il jug? no l'ho preso io grande capoccio mi raccomando eh è sopra è sopra voglio eh lo so ma io ancora napalm è l'amico in volo no regà ve siete fatta ammazzare il juggy ah ma perché no e ma regà più vi conferma più recupera vita mo avrà di nuovo la vita eh ciao è normale che me ne vado ah bo ma tu tu capoccio dovevi giocartela ma credo che il jugger non l'hai colpita perché c'era ma come ha fatto è full vita ah regà quando kill recupera vita si lo so ma l'altro io le sono sparate io anch'io ho fatto quello di sparare eh oh oh ce n'hai uno di sotto il compagno di quello lì è il compagno delle jugger tra l'altro stanno avvenendo qua io non mi posso affacciare perché quando è open lui è debole sale può salire può salire t'ho salita la corda no questo sale sì 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 porco due ah ah via è salito regà è salito gli ho tirato anche il coltello addosso ma dai almeno ammazziamo i compagni mi è sceso mi è sceso ce l'ho qua da me sta arrivando da me orca fra fra è qua sotto adesso sto cercando di killarlo eh segreto immortale no eh ma due colpi di tiraggio fra guarda che kill ha preso mamma mia fra quando fa una kill recupera un botto di vita vabbè a sta cosa sì 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 no in realtà sono un poco un poco scarico cioè avevo fatto un torneo non però diciamo che è arrivato berser mi sono cassato un pochettino no zio peccato sì ma comunque non posso non tirare due giacchie su rapert cioè ti lovina la partita mezza vergogna guarda questo non si sono sentiti i passi un attimo sono curioso comunque con la sono due con la palestra su col juggernaut esplosivi eh hanno fatto bene bisognava prendere i bazzuga comunque adesso ti faccio vedere la classe del hai parlato io non devo parlare perché quando parlo sono nero proprio comunque mo ti faccio vedere dov'è adesso ti faccio vedere la classe del graus e carica la partita vabbè dai ci sta dai amore facciamo un'altra comunque tu che come si chiama persimo che sei entrato abbiamo giocato Antonio Wager due contro due mamma mia là Lattis è perso una bella partita vabbè la prima mappa era forte un skip abbiamo vinto 3 a 0 però Ravirt abbiamo fatto la prima persa tre pareggi e poi abbiamo rimontato 3 a 1 Lattis è perso il partitone e siamo passati in semifinale quindi poi mi pare il 4 agosto 4 agosto dovrebbe essere gg quanti sciei Quanti money In this case Sono i money Attenzione perché il mio moderatore Capoccione non fa una kill Noia D'altra volta Giorgia Meloni in lobby Perché muto un po' l'audio Se non riesco a parlar Ma praticamente Era un torneo organizzato Da un'altra streamer Sull'altra piattaforma Da Blaze Blaze Violet Non quella Violet Un'altra Blaze Violet Se vince Chi vince Anche la finale Vince dei buoni Amazon Che sono sempre buoni Fra me compro qualcosa I soldi al nord si chiamano Ischei Ma che stai dicendo Ma hai sentito Qualcuno di voi Sapeva sta cosa Che cosa I soldi al nord si chiamano Ischei Non so se si pronuncia così Ischei Io sono a Parma E non ho mai sentito Quella parola Vabbè qua a Napoli Si chiama I soldi I soldi Fanno l'omone Stufrata Mi capito Donde vamos Dai rimetto Dai rimetto la Fammi levassi I occhiali Sembra Dottor Disprechted Dobbiamo andà Provate controli Si fa Si spera Ma io Ah vuoi andare Quarter Eh vabbè ormai Mi sono lanciato pure io Con te dai Solo capoccione di là Che è stato in te Ma è rimasto Mezzinuto Mannaggia Che la Che spessore No 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 E' impazzito Stavo pushando presa Oh mi va lento Ma come team Era rimasto da solo Questo Ah c'è sta il team intero Sopra Io ho già il lancio Vengo eh Bombardamento Ha tirato il bomba eh Se mi prende qua Mi incazzo C'ho un lancio eh Io Cioè c'ho I piccoli Vabbè i piccoli Si lo so Ma ha perso Nel particolare Eh ragazzi Non ci vedete Rede Sono vivo Buono Dai 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 Ti copro Ti copro Ti copro Ma sei bussato Scusa Era qua davanti No è ancora qua eh Dai dai A terra Oh ma c'è un altro C'è un altro top No ma ragazzi Tieni no Tieni no Tieni no Forse uno sotto Guarda in cielo Eh che gli fai a quello In volo Fa anche la protezione Guarda guardalo Io puoi urlargli Poi al massimo Ok la scout Take Ah uno sotto Control Vabbè è sfuggito Sotto prison Ma è salito sul tetto Ma come ha fatto Serpentino Ciao Oh ma sono dimenticato Di fare del grau Cazzo C'hai ragione Eh l'ho visto Calmi Un attimo audio Mi è arrivato Da sotto Oh Ho fatto la cazzata Via 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 Fra Fra Aspetto in aria Stavo dicendo Il grau comunque è facile Da settare La canna è la 26 La più lunga che c'è Silenziatore monoblocco 50 colpi Ciò che mi rendono Un po' più mobile Avevo messo Laser tattico E sto 4 E il sottocanna E l'anteriore Da commando Il primo mi pare Mamma A tua vista Partecipano A me cucina Niente Oh Aspetta Ma davvero Mi hanno lasciato No Ma dai È zio Ora capoccione Se smette Di sparare Mi giro Con l'altra mitraglietta Eh Ci ho provato Peccato Ho provato Regà C'era da solo E non c'era Anche l'amico Lo killavo Fra Non so dove vivi Ma qui a Venezia Cioè in Veneto Sono di Napoli O Thomas Perciò Caso Cioè Si è ricevuto Un gay sword Sei bene So No Seven in firma Seven in sordo Fra Oppure Niente Il lancio è incredibile Sono ancora surpriso Non l'avete fatto Dall'altro lato Sì sì L'abbiamo fatto Oppure tipo Non dengo un euro Fra Che vorrebbe Di non c'ho Non c'ho un euro Oh Andrea Lomba Bro Grazie mille per le 100 Oh Ancora 33 vivi Comunque Possiamo riprendere E pushare Si può recuperare La partita ancora I nanneri Pure l'ho sentito dire C'è niente qua Audio Se me lo pinghi Va a terra A terra No vabbè Giuro che non ho Il wall Lack Palla resta Palla resta Fai una scivolata Grande Muore bravo Muore Muore anche io Lo vedevo Per la blanda Giuro che Due fritture Giuro che non ho Il wallack No vabbè L'ho fatto in mezzo Alle piantine Vabbè stavo all'a E ho sparato lì in mezzo Oh chi è Chi è E vabbè Vabbè niente Tutto a posto Passata la motocicletta Ah da me Scusate Scusate Mamma mia Fra sciolto E' pieno Fra stanno al Secondo piano Eh ma gli altri Stanno sopra Vabbè Che c'aveva in mano No Questo è bravino Credo Va il suo Lo frase l'ultimo Eh Aspetta un attimo Fammi rinascere Ma Ress Your friend Ress Bru Dai son nato Toro 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 Vabbè Eh Vabbè Vabbè Ha fatto quello che ha killato me Con wreck Non è male No ma Ha usato Raga Ha usato la porta Cioè la porta Ma Eh bravo È tattica La porta mi ha fermato No è un gioco di merda No Dai Lupo qua dentro Eh l'ho sentito Sì ma è un bottarello Stava senza manco le armi Problema Sono due sopra la torre No Eh ci ho perso il vantaggio Dai 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 Guarda Stima volta Guarda Ad andare Guarda non riesco a confermarlo Ha tirato il bomba Colpi Immensa Immensa Riesci a venire Immensa Non so se mi ha dato La kill di questo Penso di sì però Sì me l'ha data Ma come Giorgia Meloni Ancora Sì Ancora in lobby Con noi Ma sono tipo Due o tre partite Che la sto beccando Cioè Vabbè Oh Qua fuori da noi Oh Tocco due No vabbè Giorgia Meloni a terra Sì io ho fatto anche questo di qua Mi ha detto Riconosciuto sto user Tanto sono partite Che li becchiamo sempre contro È andato bene Danilo È andato bene Oh Assurdo No Dal nulla Così Alla sorella Dicevo Comunque è andato bene Danilo Abbiamo Abbiamo vinto Sono passati Sì ma sono due team Questo era già a terra Prova a fare No Sulle scale Sulle scale Sulle scale Ok 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 Non ci credo Che tempi Oh No Non ci credo Ragazzi Non ci credo Questo gioco Ma io Quando hanno fatto l'aggiornamento Dopo che un ragazzo Mi ha detto Vuoi provare il grau Mi ha detto in chat Appena l'ho provato Mi ha detto Me ne sono innamorato di nuovo E lo sto utilizzando È una bomba C'è un altro Mamma mia Il lancio è pieno Ancora Lorenzo Lì No Mosso finale No vabbè Fra Uno sopra Ce l'ho Suga Sì però È finita qua Poi non c'ho più niente Vabbè Vabbè C'è gente C'è gente Ovunque Non spara Da cazzo Pazzito Che che ha sparato Da qua sopra Io 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 Vabbè A questo punto Sparo anch'io Spariamo tutti Non è stato giù Il carrello di là No vabbè Vabbè preferisco Cioppiamo il res Il res Lasciami soldi Lasciami soldi Mi servirebbero le piastre però No no Eh a volte si bugga Che culo riesco a prendere il lancio Non l'ho preso Io l'ho preso invece Oh dietro 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 al muro Al muro Rega al muro Ma pure Cacca e palle Niente alle spalle mi devono killare C'è uno sul tetto C'è uno sul tetto Eh Più di uno Minchere C'è tipo Full team sul tetto Eh è morto warrior Guarda là Devo perdere la partita E c'ho 16 kill Eh vabbè Wow frate Tu se riesci C'è 8000 C'è il carrello lì Ti prego C'è il carrello qua sotto Resta a me Capoccio capoccio No no prison C'è il full team Devi andare qua Devi andare Capoccio Non andare a soffrire Ma non c'è Compra la maschera Zio Eh no Non c'è con soldi Non c'è con soldi C'è 3000 per la maschera C'è 2007 Audio 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 un attimo Audio un attimo No guarda là se ritorno di là Madonna Ho tirato appena fuori la Peccato Raga io me ne vado Vabbè Eh però aspetta Aspetta Faccio uscire a tutti quanti No Mo chi è lost Ah zendax Sei tu lost Fai dire tale tu Sì sì Ah sì Vai vai Cosa consiglio a parte il grau Mo vi faccio vedere un po' Tutto quello che ho eh Oltre il grau Il chilo Come diceva Nicolas Io l'ho provato Ce l'ho Mmm Non mi entusiasma Sul revirt Perché Ha una mobilità Che non mi permette Di fare dei movimenti Che a me piacciono Come che ce l'ho col grau Ok Comunque il chilo ce l'ho qua Che è successo Sono stato espulso dal gruppo No cioè Che cazzo fai Ma perché Stavo dicendo Ah ma ho invitato No way bro Non ho capito perché sono stato espulso Vabbè Oh ma che fai Io non so Oh mi hai spulso Ah no A me è uscito Ah no Dice spulso Pezzo di Vabbè Stavo dicendo Comunque il chilo Automatono Regà Anche l'automatono Non è male È buono A me piace Mi piace molto Quello da terra Fa molto male Anche quello personale Non è male E Fammi pensare Qualc'altra classe Che ho qua Che è da poter consigliare L'XM4 Anche L'ho provato Non è male Come assalto Sul Rebirt Si può usare anche questo Il grau Ce l'ho così Uè Toto Toto Tolo Ho sbagliato Mi sa che si chiama Tolo Non Toto Ogni tanto Devo togliere La webbrega Come lo sapete Sempre per la Puzzura Una bella Benedetta Benedetto Detto anche Viper Mi ricordo Che ti chiamavi Viper Di là Io non mi dimentico Le cose Ricordo Tutto di tutto Quasi Dopo in questa partita Usi il chilo Sono curioso Rappena muoio Lo tolgo Perché già lo so Che non riuscirò A usarlo Perché È molto diverso Dal grau Cioè il grau Mi riesce a fare Un movimento Molto veloce Capoccione Bot Vabbè Lo piglio Dai Lo piglio Lo piglio Ma se muoio Piglio il grau Andiamo Andiamo Ok Let's go Stai Stai Ma magari Perché so tutto So tutto Cagato Ma so tutto Cagato O so tutto Pagato Dove andiamo Non so Un ping Vabbè Vado Prisano A prendere Gli schiaffi Dai Ormai Io No Eh Te l'ho detto Eh Vaffanculo 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 Sio Povero Niente 240 di danno Non bascio Annaggia È figa Ma da com'è camperato Sto qui Ma control Nessuno ha dato control Questo che è sul piano Ma dov'è che mi ha sparato Non ho mica capito Raga Due a terra Due a terra Qui da me Eh Stiamo scendendo Fra Raga Oh Ok L'altro se stava restato Ho confermato io No Non lo so Non lo so Fra C'era Tolo Toto Qua Come cacchi Sghiamano Uno sopra Sì Adriano Sono ancora là Ma uno è qua E qua fuori Ah se da contro Ci stanno a pushare E vado Italiani Italiani No Eh No Lo doubt è tutto Ma che è sta cosa Che è sto omerino Mannaggia Ma che cacchio di classe Ma lo sto seguendo Da tre ore A sto medici Qua Io ho fatto Sto qui Non ci avevo Tutti Ma hanno arrivato L'arrivo Lo ho ammazzato Sono rimasto Senza Nella Sono arrivati Sono tornati tutti E stavano tornati Sottoprisone Quelli che abbiamo Utilato Eh E qua fuori Straccato Eppure sul tetto Quanti sul tetto Dovete parlare Quando morite Ah Sottoprisone Sottoprisone Noi Siamo in semifinale Bro Oh L'MP40 Pure non scherza Comunque Almeno questo Che ho preso Da terra Non è male No Però Meglio questo Per sparare Non so Anzi questa Niente qui dentro Meglio una piatta No Meno male Meno male Zio Ho sbagliato Mi arrivo lupo Me l'ho preso Le l'ho rubato A tolo tolo Uno qua da me Dove sei tu All'altra casa Da solo No Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Anch'io No va pieno Occhio quando ammazzate Questo pica 9.50 Ah Tu Eh ma peccato bene Ma peccato Questo No Eh va che Da Due per la stessa skin Carca miseria Io sono morto Ma quanti si è In tre bravi In tre bravi Marco due Fenomenio In tre contro uno Provo il lancio Dopo più al chilo In teoria Ah arrivo anche io al lancio Ah al chilo c'avevo l'arma guerra Asettata Quindi il lobby era prendibile Sì ho preso Ah ecco Ma tra lo tolo comunque pure il suo lo fa Tra iardini anche lui c'è Sì sì Tra iardini Oddio il chilo Oddio il chilo Ma il chilo è fortissimo Ma questo l'ho squaiato Sì Arrivo da voi Che non è una piastra Arriva uno Arriva uno Lo so Lo so Lo stavo aspettando Non lo vedo più però C'è no Sento Oddio Oddio Che devo vedere I sorghi Dentro di the water Stanno pure Ok C'è 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 andato Oh L'ha fatta l'ultimo All'ultimo a tutto Stavo per moridolo Lei è Swift Lei è Stick Ha una mano No Fa' un culo Fa' un culo Fa' un culissimo Un colpo questo Raga Non so Prende l'arma Vabbè Sto qua Con tolo Ancora Giuro Sto partita Non è che C'è sto HP Moltissimo Dietro di te Giante sul tetto Due Tre Atterra Quello sul tetto Inghiera Dove Stai Mh 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 Spero Pusciare Il tetto Allora Ehi mambo Stai spaccando E Sweep Ma era Ah Perché Se ne fatti tolo Ok In fondo È Glicciato Eh No Si è buttato Ma vecchio Dove sono quelli raga che avete ammazzato sul tetto Se ci sono delle Guarda Trocato In mezzo Le strade Ma Non male Pure Il chilo Stai 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 Da tipo Qua Occhio Io ho due caricatori Tolo sta a fa il panico Comunque Tolo Quanto sta tolo Vabbè 12 Io so 8 Pensavo se sia 20 kill No no va bene Nel senso Bello carico No C'è uno No Ho sentito passi sotto prison Raga forse Controllate un po' Sì sì Di questo lato C'è gente eh Ah tempra Raga lì c'è una marea di roba Munizioni Mannaggia il serpentino bro No Chi m'ha fatto Guarda lì Guarda No Io torno 30 secondi Ho tanti Allora che è successo in chat Anche a me domani Figurati la rottura Ah ok niente Niente Stai ballando Domenico Ma non ci credo Che palle Venite qui Dopo Poi Se ci so Di si resta Io d'intorno più Mi servono le armi Mi servono le armi Però C'è di tutto E di più C'è di tutto E di più Sicuramente l'universo Anche le maschere No arriva arriva Ci sta busciando uno È qui eh Dietro dietro È qua nel corridoio Era nel corridoio Se n'è andato Forse ci ha visto E se n'è andato Tornato sotto Mi sa Chi è con Datemi soldi raga per favore No io l'ho lasciati No guarda come si è salvato Uno al muro One shotissimo si è andato dietro al muro Oh ma che è? 44 gatti in fila per 7 Con il resto del Abbiamo al piano di sotto Dove sta la cucina Fa un culo Del serpentino Oh la glocca vera Nel giubbotto Diego Viedo scusa se non uso internet Un vero che il top boy Non sta su internet Quello che ci sta facendo Il giro a sinistra del muro Ma possibile Ah perché si sono infilati dentro la casetta Degli ultimi Vai GG Ah bella bella Eh non è facile Non è facile Fra insegnare Diciamo che Ultimamente Se lo faccio Ovviamente faccio il coaching A pagamento GG guys E Anche se in realtà Non ho moltissimo tempo È Un po' incartato GG Mamma mia Sto iniziando a morire di sonno Quanto ore è? Ah siamo già a 4 ore Mamma mia È volato il tempo Il torneo è d'ora e mezza Alla d'ora e un quarto Dovete invitare qualcuno E start ora No no puoi startare E Ah Io sì Io Alla madonna C'ho C'ho il team Con cui sto lavorando E sto producendo parecchie Infatti sto filendo Sto filendo un'altra canzone Però devo fare un'altra ancora C'ho una scaletta Da rispettare Quindi magello Sono sempre stra full Di impegni Con le boosting Ok Eh Non stavo ascoltando Era un attimo Stavo parlando in chat Che ha detto Ahia Eh 4 ore 17 Broschi Ciao ragazzi Eh Ben arrivata Alessia Cosa Il Il chilo Che Che cosa ti serve O il gravo Il chilo è questo Il chilo che ho usato ora Era questo qua O l'arma guerra Quale ti serve Samue Dicevo Vabbè Cioè A quest'ora si viene Rubacchiotto All'1 e 16 Buonanotte Buonanotte a gusto A 5 ore Dandola tutta accettata Madonna Ah Di domenica Si è tornata Da lavoro Wow E che stavo a dire Sto sbagliando 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 Questo Sto sbagliando A vendita No Ho dormito Ho dormito poche ore Poi non mi sono riposato Per niente Sono stato A lavorare Poi ho attaccato qua Torneo A traiardare Sono già 4 ore 19 Di nulla Di nulla A gusto Eh si Lavoro anche la domenica Non dirla a me Io sto Praticamente H24 Che lavoro Faccio l'ultima In stacco No Allora Mo vediamo Perché veramente Adesso Sto venendo meno Cioè Ho gli occhi Che mi si stanno chiudendo Sto sbagliando Vediamo Faccio questa Vediamo Se ho forza Per un'ultima No Però Però veramente Vado Vado Comunque domani C'ho da fare E sto fotto Ce n'hai Sotto In realtà Anche sopra Mi ha chiamato Gente qua giù sotto Uh occhio Ce n'ha Ah è nel bunker No Dai Ma è quello di prima Vai te stavo Stavo prendendo L'arma Porca Madonna No No Eh Ti ha salvato L'amico Ti ha salvato Mi Mi dissocio Davide Grazie Grazie al follow Benvenuto Non ti prego Jerry TV Ah Porta La gonna Era Ah Era Porta La gonna Hai salvato la partita Questo qua che ti ha killato L'ho killato io Mi ha fatto un bestemmione Mi ha tirato Eh sì Sono due italiani di prima Dovrebbe essere anche piga in quel gruppo lì L'ho ammazzato prima E Ha detto brutte cose Ha detto brutte cose Ah finalmente mi ha dato la kill di quel Klaus Di quell'altro Era amico loro Di quel Klaus No No Cappò Porco tuo Cazzo Stanno Pum Per ultimo David Beckham Ci ho messo tutto per stesso Vedete un attimo Eh Un attimo Instagram Se ci fa vedere la figa No Beh in realtà si vede solo quello là Pronto Cirillo Pronto E con dove ha detto È finito Bro Abbiamo vinto Bro Mi sono tirati via Due su prison Con il mitraglione Quanto mi piace Sto giocato Non mi fai sentire niente Con quel mitraglione Ah che devo fare Però io le devo fare kill Cioè Non ci credo Non ho avuto la caramba Sì Sei a uno Però Diglielo Che in realtà Contro i pareggi E' sceso uno qui da me Ma non ho ravito dove Porco due Mi sono incastrato Ho morto No No Ecco pure questi Erano italiani Me li so Perfatti Chi è Po Porcio A pizzeria Comunque dicevo Allora abbiamo fatto 3 a 0 Poi stavamo perdendo 1 a 0 Abbiamo fatto 3 pareggi Poi abbiamo fatto 3 a 1 Quindi è finita 6 a 1 Ah in realtà Una partita non valida Perché avevamo fatto No quella Che è la stessa partita Che abbiamo pareggiato Vabbè comunque Vabbè una non valida Poi un po' dei pareggi Mamma mia Guarda lì Guarda Quanto è bello Grabo Non mi dite niente Ma Cioè Io amo Troppo sto grave Ok Il chilo Ma Secondo me Il grano Non si passava Oh Bella vita Com'è bella vita E di solo Ma no Ho capito Perché ho kilato Uno mi fa Bella vita Sopra 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 Che sta succedendo Crazy Mol Molacchio E dovesse Se quello non avesse La protezione Di quando Nasce Non l'avessi avuto Questo ora Era a terra Come parto A proposito Quando ascolti Era arrivata Stava a 127.000 Non ci ho guardato Oggi Che ero impegnato Di fronte a voi Di fronte a voi Di fronte a voi Oh 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 No Dietro di me Nella 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 Piena Lavatrice Da Un 4 Allora Fatemi vedere A quanta è arrivata Ah E vado a 130 E vado a 130 Martin Gerricks Non è che Deve arrivare A 150 Aiuto No Mi ha busciato Guarda 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 Senza Niente Buonanotte Alessia Sono a terra E c'è Grazie I want to want to give me I want to give me Oh 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 Vabbè Ma hanno tirato Il bombardamento Qua sopra I mo' Sono sceso Oh Di mortacci Tua Cioè Veramente Mi ha preso Il bombardamento Mentre ero dentro Vabbè Come al solito I' Analytics Mentre E' E' On Mentre E' Vabbè io mi rubo la roba tua Ah aspetta mi servono le mumizioni Ho tirato una fessa No vabbè Di che ti servono? No no le ho presi ce le ho Solo mitraglietta Mannaggia zio discord Da dove? Da sopra living cioè siamo bloccati no Siamo bloccati no no E in 4 che puntano qua Niente Eh purtroppo Siamo morti Fanno la mossa finale Fanno la mossa finale Ah non me la fai Merda Stanno pushando Eh Ando a destra Lo faccio l'ultima dopo questo Eh vabbè Va bene dai 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 Era ormai eravamo i due eravamo Broccati Stanno pushando O devi fare un biscotto che buff No Abadul Vai vì Concetto di Anuel 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 è un ragazzo grosso Sono pronto Ha dei bodyguard che sembrano due armadi Non ci posso credere Ci saranno tantissime persone di tutte le età Ancora meglio Staranno tutti vicini perché sarà pieno Ammocchiamento Ci saranno anche i suoi Oddio quello mi fa morire Chi è che lo sta guardando Io Mi fa morire lui È veramente un genio Quindi vuoi andarci? Sì Il 15 luglio Sì appena arriverà Mi tolgo la maglietta perché farà troppo caldo Appena lo vedo salgo sul parco Gli dico guardami Eh fortissimo E' veramente un genio Come è venuta in mente sta cosa Ma quando fa quello Quello del nonno l'hai visto? Sì A voglia A voglia Ma perché Ma fa veramente morire Buonanotte giovelli Io faccio l'ultimissima vado anch'io Mamma mia E' arrivato quel cheater di Stefano E' arrivato Ho visto sì L'ho visto Abdu Dove ti devo accompagnare? Abdu l'ho guardato la tua cronologia su Perché hai ricercato? No eh Dai vabbè Ma questa però E' una roba del gioco Però eh Ah ma Ma va a cacare Dai Mi ha killato uno da sopra Non quello che mi sto per killare io Dicevo io Impossibile Non lo sai Abdull Stefano Non lo conosci Abdull Come fai a conoscere Abdull Vatta a vedere subito i video di Abdull E' un grande Veramente Il genio E' un grande Vai Abdu Abdu Abdi Abda Abdu Abda Abdi Abda Abdi 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 Continuo a avere la pistola Viene da dietro warrior battere E' pure davanti Ma ve lo faccio io L'unica brusco è No Non ci voglio credere qui C'ha la pistoletta raga Vediamo se mi fa la clip Eh si se non mi fa la clip Ah l'ha fatto Cirillo Grande Cirillo Niente a me non me la fa se scrivo io non me la fa Non capisco perché c'è stato bug Grazie Cirillo Perché se no non mi fa la clip a me Mi ha attaccato una tornita Non so perché Non lo sai In teoria Sai che tra poco arriva Poi sul tetto E' sotto E' sotto ai bagni mi sa C'è uno sotto ai bagni Eh si C'è guarda là guarda Immortale Immortale mi ha detto Ma chiamiamolo il lupo bianco L'immortale Eh l'ho visto è salito sopra Si va da venire che tengo Tengo Uppappà Citta L'hai fatto? No non l'ho fatto Grande No 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 In realtà Come te lo dico E' arrivato E' arrivato un altro team Quindi mentre lo sparavo io E' arrivato anche un altro team Ok Perché Mi ha tirato giù contro No Ho morto E' arrivato quello dell'altro team Guarda 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 Come dono Ballo Guarda guardahd Guarda 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 Don do lo Guarda guarda Gilbert Nanai Live A quest'ora A luna e mezza Che si sta facendo Si sta rallenando Comunque Signoresse Ho visto che lei Prima Stava giocando Vero Che hanno risolto Quel piccolo Baggettino di errore c'è gente qua da me c'è gente no no da dove è salito questo ma non sei così speciale dammi tu oh ma quanti lanci abbiamo fatto scendi dai 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 scendi no chi è prior basta basta giro nel parchetto spacco l'uva e chiotte oh no la terra oh da cita è morta oh ma la nemi chiotte è viva e niente che è successo che è successo che è successo antonio ok faccio l'ultimo e vado non sono no mi desagio buonasera vincenzo ma c'è uno sopra ah no scusa l'elicottero minca pensa come sto messo no no con la rpg pensa come sto messo dove oh sopra ma dai che schifo con pure il potere d'arresto sopra buonasera vincenzo caldo no che capocchia hai chilato hai chilato ci rendiamo conto ma guarda no no vi prego ragazzi no guardate che schifo questa cenda a terra dove ah vado vado io sono seri guarda io sono seri guarda non ci voglio credere ancora tu con questo cazzo di battuta ma lui come ha fatto ma karma c'ha ma tu devi di karma c'ha anche questo c'avevo la rasiglia guarda qui c'è un laggiapolo questo è un po' il porco oddiaz c'è uno arrivo 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 z z z come ti piace andiamo con che arma sto giocando oh non ce la voglio credere io me il socio no raga sto laggando come la merda sto laggando torniamo abbiamo vinto abbiamo vinto prima partita abbiamo vinto 3 a 0 e poi abbiamo fatto 3 a 1 l'altra quindi si è 1 1 a 2 fra non ti viene ok non è manso tutto qua è il solito botto di prima dai è camperato lì come la merda e niente non si schiava più di lì cambiamo zona io sono ancora qua oh chi mangia è chi no è ma tu devi questo che arma ho trovato a terra di questo guardi come ha settato l'arma questa aspetta ti venga aspetta sei riuscito a tenere il tettino lì sopra arrivo veramente o dalla torre buonasera comunque lorenzo buonasera brucio un grado aspetta mi sono perso qualche messaggio ah no era sempre vincenzo ok ho preso il grappolo comunque quelli che usano il bazooka dovrebbero cambiare il coglione no ma ma quello si è fatto proprio la classe col bazooka ma non solo si è fatto la classe ha annanzato cioè aveva anche i poteri dal resto sopra buonasera Giuseppe buonasera o buongiorno allora lasciate stare la classe che questo è quello che ho trovato a terra la signora fammi male perché se no con me ho sotto di me qua qua gente qui raga qua 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 il team si si andrea si si abbiamo vinto siamo in semifinale no raga 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 no no non ci credo sono due sono due sono due sono due sono due amperate sono due amperate sono due dai 22 al piano di sopra quando guardo io solo aggando sì ma dato della gang a me assurde come lo fare sarà se non vieni qua no se non si sposta giuseppe non è rimasto pagato ma me ne venga tre mamma sparato l'altro che entra dall'altra parte non ci voglio credere non quello che è peccato vabbè rega buono signori io lupo ti ringrazio tantissimo e niente è una buonanotte e una buona serata buonanotte anche a te bella bella ciao 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 in che sono arrivata 8 e 18 io di vittoria buonanotte zente buonanotte lupo dai ci vecchiamo dai dai Signori Vi devo dire Ti devo dire Vi devo dire Che non ci avevo fatto caso Che sono già arrivato a 8 e 18 E si abbiamo fatto un po' di vittorie Oggi durante il torneo 2 contro 2 8 e 18 quindi ho superato Non c'è credo ho superato l'amico mio Terry Era 8 e 16 8 e 18 Vabbè poi c'è sta questo 8 e 85 900, 927, 936 986, 989 995 1000 Vabbè ma 1000 vabbè Ma che fate ve ne comprate e partite Comunque niente ragazzuoli Io vado anch'io Che sto collassando Non reggo più Vado a dormire E L'1 e 43 Sicuramente ci Ci becchiamo Domani Domani sera ci sono sicuramente 9 e 9 e mezza Attacco di nuovo Quindi ci ribecchiamo sicuramente domani sera Penso stavolta a pranzo non ci sono Perché C'ho un attimo da fare con La musica e tutto il resto appresso Quindi sono un attimo occupato Niente Ci vediamo domani sera 9 e 9 e mezza Regà Buonanotte a tutti Grazie Grazie milla Grazie milla T Country Grazie mille Grazie a tutti